buongiorno a tutti e benvenuti al my sequel day 2020 che quest'anno come tanti altri eventi si svolge in un formato esclusivamente digitale questo non ha limitato una notevole presenza infatti siete in tantissimi collegati e questo ci fa piacere vi ringraziamo giusto perché è una giornata in cui parleremo di tante novità e parleremo di diversi approfondimenti my sequel è una piattaforma che in realtà non ha bisogno di grandi presentazioni però ci sono diverse novità relative all'ultima versione di cui è giusto parlare e ci sono diversi aspetti della piattaforma soprattutto per quanto riguarda le applicazioni più di livello enterprise che non sono scontate anche per molti degli utenti di my sequel e per questo che oggi abbiamo tanti interventi abbiamo cinque relatori infatti passo subito a presentarveli nell'ordine in cui faranno le loro presentazioni abbiamo andrà kazaku buongiorno andrà buongiorno a tutti grazie innanzitutto per per essere oggi qui con noi e per aver scelto di passare questa mattinata insieme poi avremo con noi marco carlessi marco buongiorno buongiorno a tutti grazie di partecipare anche da parte mia io mi occupo della parte tecnica per my sequel e quindi sono uno dei presentatori della parte delle presentazioni tecniche grazie poi parlerà michelangelo uberti di partec ciao michelangelo ciao buongiorno a tutti grazie di essere così in tanti di aver risposto ai nostri tanti inviti so che abbiamo tempestato ma ne valsa la pena assolutamente ci vediamo dopo poi vittorio cioè sempre di oracle buongiorno vittorio buongiorno grazie all'introduzione salve a tutti io sono vittorio cioè e anche io mi occupo della parte tecnica di my sequel sarà un piacere intrattenerti questa mattina mentre l'ultima presentazione tecnica sarà di mir cortensi buongiorno mirco buongiorno buongiorno a tutti grazie per esservi collegati sono molto contento di essere qua con voi oggi parleremo di alcuni dettagli tecnici alcune novità di mysql grazie ovviamente non avremo solo presentazioni avremo anche un due tre momenti in cui vi convolgeremo con degli stampoli avremo anche dei momenti di dibattito al di là delle slide però non voglio togliere troppo tempo a chi deve dire le cose veramente importanti e quindi passerei la palla subito ad andra per parlarci delle novità dell'ultima versione di mysql grazie francesco allora come vi abbiamo abituati l'evento inizia con una presentazione di introduzione delle ultime novità in cui introdurrò brevemente gli ultimi aggiornamenti in termini di prodotto tematiche che poi verranno spiegate più nel dettaglio dai miei colleghi che faranno le loro rispettive presentazioni tecniche innanzitutto mi presento io sono andra kazaku lavoro in oracle dal 2015 nel 2017 mi sono unita dal team di mysql ho sempre seguito il mercato italiano da un punto di vista commerciale attualmente seguo i key accounts cioè i clienti più strategici dell'azienda non solo in italia ma anche in spagna e in russia attualmente sono basata a milano però vengo da bucarest forse l'avete già capito dal nome che non sono italianissima tra l'altro ho vissuto anche molti anni in abruzzo per cui probabilmente noterete un mix strano di accenti quando parlo nel cuore mi sento per metà italiana ed è uno dei motivi per cui sono attualmente basata qui e poi domani chi lo sa tornando alla nostra presentazione questa è una slide con la quale mi piace sempre aprire il keynote introduttivo questa è una classifica realizzata da DB Engines che probabilmente conoscerete perché è una fonte molto autorevole per quanto riguarda i database e questa è una classifica che loro fanno mensilmente su oltre 350 sistemi di database e stillano questa classifica in base alla popolarità e alla diffusione dei vari database MySQL è da anni al secondo posto dietro Oracle ed è il primo database open source in questa classifica come vedete anche i punteggi nella parte destra si colloca comunque con un punteggio anche nettamente superiore rispetto al secondo database open source presente in questa classifica un altro dato importante è che l'anno scorso MySQL è stato nominato il database dell'anno 2019 sempre da parte di DB Engines e questo ovviamente ci fa molto piacere ci rende molto fieri ci sono altri studi, altre survey che mostrano un risultato simile che mostrano quanto diffuso sia il prodotto questo è uno studio realizzato da JetBrains nel 2019 sugli sviluppatori e alla domanda quale database avete utilizzato negli ultimi 12 mesi più della metà dei partecipanti ha indicato una preferenza per MySQL il 60% degli sviluppatori uno studio più recente del 2020 realizzato da Stack Overflow mostra un risultato simile anche in questo caso oltre la metà dei partecipanti indica MySQL come prima scelta per quanto riguarda i database questo solo per far vedere che si tratta di un prodotto molto conosciuto, molto diffuso e non siamo soltanto noi a dirlo ma sono autorevoli fonti nel mondo IT questa diffusione e il fatto che si tratti di un prodotto così conosciuto è un fatto positivo però ovviamente ci sono tantissime informazioni disponibili sul prodotto che ovviamente non possiamo controllare al 100% per esempio c'è anche questa tendenza a volte a pensare che siccome è un prodotto open source un prodotto gratuito che costa poco vale anche poco che comunque può essere utilizzato soltanto per applicazioni non critiche in realtà questi sono alcuni dei clienti che abbiamo a livello globale si tratta di clienti come Facebook, Netflix, Uber tutti clienti molto innovativi che hanno scelto di usare MySQL e continuano a investire in noi ormai da anni Facebook è cliente dal 2004-2005 come immaginate si tratta di una quantità immensa di dati di miliardi di dati e loro riescono a farlo con MySQL tra l'altro all'evento annuale Oracle allora con l'open world alcuni di questi clienti sono anche invitati a parlare dei loro casi d'uso e di come riescono a scalare questi volumi di dati con MySQL anche in Italia abbiamo costruito in questi anni tanti clienti, ormai sono oltre dieci anni che siamo sul mercato italiano da quando MySQL è stata acquistata da Oracle insieme a Sun la famosa acquisizione e dietro a questi loghi che vedete qui ci sono tante storie interessanti tanti casi d'uso che soprattutto i miei colleghi tecnici conoscono molto bene si tratta di clienti alcuni che hanno iniziato a usare MySQL per determinate aree del loro business e altri che invece basano la loro intera infrastruttura su MySQL per farvi un esempio Team utilizza MySQL per la parte portali anche poste italiane realizza molte applicazioni con MySQL tra cui l'applicazione per il tracciamento dei pacchi per esempio quando andate vi collegate online per vedere lo stato di un vostro pacco in realtà state interrogando un database MySQL Terna utilizza MySQL nei sistemi SCADA della distribuzione dell'energia elettrica e così via parlavo prima dell'acquisizione di Oracle di MySQL in quel momento c'era un po' questa preoccupazione legata al fatto che Oracle potesse scegliere di non continuare a innovare nel prodotto o comunque di non farlo come prima in realtà questo non avvenne anzi quello che è successo è che Oracle ha continuato a investire molto nel prodotto continuando a rilasciare numerose versioni iniziando con la versione 5.5 per poi successivamente rilasciare la versione 5.7 una major release che ha introdotto l'alta disponibilità nativa con InnoDB Cluster per poi arrivare all'ultima versione la più recente MySQL 8.0 che rappresenta una vera svolta in termini di prodotto da qui anche il cambiamento numerico dalla 5.7 alla 8 che non è casuale perché non solo introduce tantissime nuove funzionalità sia per i DBA che per gli sviluppatori ma con questa release è stato fatto un lavoro immenso di pulizia del codice sia interna che esterna e sono stati risolti tanti bug è stata migliorata la parte di sicurezza e così via oltre alla sicurezza dove abbiamo introdotto nuove funzionalità sia appunto come funzionalità ma anche a livello di motore abbiamo migliorato anche la performance e la scalabilità che sono adesso due volte migliorate rispetto alla versione precedente che era già una buona versione abbiamo introdotto tante funzionalità per gli sviluppatori ci siamo rivolti molto di più a questa categoria introducendo delle funzionalità pensate per loro e abbiamo continuato a investire anche nella parte di alta disponibilità nativa con InnoDB Cluster migliorandola ulteriormente la novità però più interessante di questa nuova versione lo rappresenta l'introduzione del document store della parte documentale praticamente abbiamo reso MySQL un database ibrido in grado di gestire sia operazioni di tipo SQL e sia operazioni di tipo no SQL nello stesso database e anche a livello di tabella che poi Marco sono sicura vi spiegherà nella sua presentazione subito dopo la mia praticamente abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri clienti che già utilizzavano MySQL come relazionale di aprirsi a nuovi casi d'uso per la parte documentale avendo MySQL oltre 17 milioni di clienti di utenti nel mondo quindi di installazioni attive abbiamo voluto appunto dargli questa possibilità perché era una cosa che i clienti ci chiedevano da molto tempo vi vorrei dare anche un'idea del modello di business che abbiamo con MySQL per chi non lo conosce già come sapete esiste la versione MySQL Community la versione gratuita liberamente scaricabile utilizzabile di MySQL che include soltanto il database per cui ovviamente sono un problema ci sono tantissimi materiali c'è il manuale di MySQL che ha migliaia di pagine dove potete trovare la soluzione però comunque sta a voi cercare una soluzione e poi abbiamo la versione MySQL Enterprise Edition che è la versione commerciale di MySQL che oltre al database include anche una serie di funzionalità aggiuntive di strumenti di gestione e ovviamente anche il supporto in sostanza include questi tre blocchi che vedete adesso sullo schermo quindi funzionalità avanzate per la scalabilità per l'alta disponibilità intesa come supporto alla CA ovviamente tanti strumenti per la sicurezza Oracle come sapete ha una mania per la sicurezza e MySQL non è un'eccezione in questo senso poi abbiamo strumenti di gestione per il monitoraggio backup sviluppo amministrazione tutti gli strumenti necessari a un DBA tutti gli strumenti diciamo di classe Enterprise indispensabili per un uso professionale del prodotto e poi abbiamo il supporto tecnico 24x7 7 giorni su 7 che sarebbe l'Oracle Premier Support per chi ha già Oracle e poi abbiamo anche il Consultative Support un supporto in più rispetto al supporto tecnico che non si limita alla semplice risoluzione di un bug è quasi come se fosse un consulente in remoto che può darvi delle best practices in svariate situazioni per esempio se volete passare dalla versione 5.7 alla versione 8.0 potete rivolgervi a questo tipo di supporto e ricevere un best practice degli step in questo senso ovviamente questo non sostituisce i servizi professionali che sono una cosa ben diversa però è un qualcosa in più che offriamo che i clienti apprezzano e che anzi se non avete ancora sfruttato vi consiglio di farlo così come anche per tutti gli strumenti inclusi nella versione Enterprise Faccio vedere questo non solo per chi non è ancora cliente ma anche per i nostri clienti che magari a volte non sfruttano pienamente tutte le funzionalità incluse nella versione Enterprise che hanno già in casa e perché non farlo giusto e poi ovviamente MySQL Enterprise Edition include anche le certificazioni essendo un pezzo di Oracle certificato per funzionare insieme ad altri prodotti Oracle come si acquista MySQL MySQL Enterprise è una sottoscrizione annuale per cui si acquista con questa formula per server server da 1-4 socket oppure da 5-5 socket in base al vostro tipo di macchina avete notato che non non parlo qui delle CPU perché dei core scusate perché i core non vengono presi in considerazione per determinare il tipo di licensing quello che ci interessa è semplicemente il numero di server dove è installato MySQL e il numero di socket di quei determinati server tutto quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente è già incluso in questa subscription non ci sono costi separati per le varie funzionalità è un pacchetto completo che vendiamo con questa formula tutto quello che vi ho detto ovviamente si applica alla versione MySQL on premise ma non è una novità il fatto che ormai negli ultimi anni c'è una tendenza che è già ormai iniziata di spostare i dati in cloud secondo uno studio realizzato da IDC prima del 2025 quasi la metà delle aziende sposterà i propri dati o comunque parti dei loro dati in cloud ed è proprio per questo motivo che recentemente abbiamo rilasciato la versione MySQL Database Service un servizio gestito di database sviluppato gestito e supportato dal team MySQL quindi da Oracle tra l'altro l'unico servizio di database gestito basato sulla versione enterprise di MySQL perché di servizi MySQL in cloud ne troverete tantissimi basati sulla versione community o sulle varie fork ma non sulla versione enterprise essendo un servizio gestito ovviamente facilita di molto le operazioni di backup restore amministrazione le varie operazioni che un DBA normalmente deve fare e include le funzionalità della versione MySQL Enterprise ovviamente anche il supporto supporto sia per il database sia per la parte infrastruttura infrastruttura altamente sicura perché stiamo parlando dello CI Gen 2 un'infrastruttura di seconda generazione di Oracle quindi una sicurezza in più oltre alle funzionalità di sicurezza di MySQL già incluse nel database ovviamente piena compatibilità con la versione MySQL On-Premise che vi permetterà di optare se volete anche per un approccio di tipo ibrido per le vostre applicazioni e mi avvio alla conclusione della mia presentazione introducendo un altro servizio in cloud che lanceremo a breve il MySQL Analytics as a Service nella giornata di oggi ci sarà una presentazione dedicata sia sul MySQL database as a Service e sia sul MySQL Analytics dove vi spiegheranno nel dettaglio i miei colleghi tecnicamente cosa includono vi voglio soltanto dire che si tratta di un prodotto sempre basato sulla seconda generazione di infrastruttura di Oracle è un tool per fare analisi di dati sui dati MySQL in memory altamente performante che permette una scalabilità massiva integrato con MySQL ovviamente è anche questo supportato questo è tutto da parte mia vi ringrazio per l'attenzione lascio la parola al mio collega Marco Carlessi che vi farà una presentazione sulla versione 8 di cui vi parlavo prima buon proseguimento bene grazie Andra con Carlessi parliamo di microservizi una delle novità appunto della versione 8 della piattaforma MySQL è l'apertura un'apertura molto più marcata al mondo cloud elemento importante soprattutto per le aziende che stanno incominciando ad approcciare tutto il mondo cosiddetto cloud nativo quindi è importante approfondire questa evoluzione di MySQL non sottrarrei più tempo alla presentazione dei suoi contenuti quindi passiamo la parola a Marco grazie salve io sono Marco Carlessi e vi faccio la prima delle presentazioni tecniche su MySQL 8 un database che ha introdotto numerose novità rispetto all'architettura tradizionale tipica di MySQL e che quindi permette di avere dei casi di utilizzo anche più particolari rispetto a quello che era la soluzione classica di MySQL come database SQL sono nel mio ruolo incaricato di fornire i servizi di prevendita soprattutto per l'Italia insieme anche al mio collega Vittorio che seguirà prossimamente in una di queste presentazioni quindi se al termine dell'evento o nei prossimi giorni avete bisogno di chiarimenti indicazioni o quant'altro sentitevi liberi di contattare la mia collega Andra me o uno degli altri colleghi per avere chiarimenti approfondimenti e quant'altro andiamo quindi a chiarire anzitutto un discorso sul perché MySQL per le moderne applicazioni per ambienti microservizi stiamo parlando di un database che ha fatto della sua parola chiave principale la facilità d'utilizzo infatti si installa nel giro di pochissimi minuti fornisce strumenti di gestione molto semplificati quali il workbench graficamente permette di avere sviluppo delle applicazioni gestione amministrativa delle server abbiamo introdotto un nuovo strumento chiamato MySQL Shell se non lo conoscete vi invito a studiarlo dargli un'occhiata è un client in ottica DevOps che permette quindi di avere sia una parte amministrativa quale la gestione delle repliche gestione dell'alta disponibilità gestione export import sia gestione del prototyping dell'interazione con il database quindi quello che facevate con il classico MySQL client lo potete fare anche con il MySQL Shell più tutto il resto ed è oltretutto multipiattaforma facile da utilizzare significa anche che i comandi che avete sotto Windows valgono sotto Linux valgono su Solaris eccetera quindi facile da utilizzare vuol dire anche adatto agli sviluppatori che hanno un prodotto e possono scaricare installare velocemente containerizzato quindi non devono preoccuparsi neanche troppo della parte di installazione ma offre anche strumenti quali funzionalità di store procedure common table expression Windows function nella versione 8 abbiamo introdotto numerosissime funzionalità numerosissime estensioni SQL che erano richieste da tempo quindi avere la possibilità di avere uno strumento di database che offre quello che serve per le applicazioni moderne che siano LTP o Business Intelligence o quant'altro garantendo comunque delle performance perché abbiamo gli strumenti classici dei database SQL quindi partitioning indicizzazione histogrammi eccetera online DDL ma oltretutto abbiamo fatto diversi benchmark dimostrando come le prestazioni sono di tutto rispetto su MySQL 8 nel suo primo rilascio abbiamo raggiunto 1,8 milioni di query per secondo su un server 1,8 milioni sul database NDP MySQL cluster di cui parlerà Mirko nella sua presentazione abbiamo raggiunto anche 200 milioni di read per secondo in modalità no SQL quindi prestazioni che in termini di scalabilità verticale permettono di raggiungere gli obiettivi che si pone l'azienda l'applicazione e quant'altro pur garantendo anche un discorso di sicurezza come diceva Andra Oracle ha posto una forte attenzione alla sicurezza quindi nella versione 8 vi troverete ad avere numerose estensioni numerose funzionalità una gestione degli utenti avanzata non semplicemente uno username e password ma ruoli utenti privilegiati e non privilegiati la possibilità di gestire le password in termini di storia abilitazione sicurezza eccetera eccetera funzionalità di criptografia e in tutto questo mantenendo l'affidabilità del database perché uno dei punti fondamentali del database è la gestione dei dati e poiché il dato è il cuore del mio business della mia azienda devo essere sicuro che il dato venga mantenuto venga salvato sia al sicuro quindi acidità transazionalità alta disponibilità nativa perfettamente integrata nel mondo MySQL l'offerta MySQL è quella che da un punto di vista di open source fornisce una soluzione completa per l'alta disponibilità chiamata InnoDB Cluster completamente open source peraltro tutto questo interessante utile ha permesso al database di svilupparsi di essere estremamente utilizzato contiamo in maniera molto conservativa 20 milioni di installazioni nel mondo ma quando le aziende hanno delle attività critiche hanno bisogno di qualcosa di più questo qualcosa di più è la versione enterprise introdotta da Andra da un punto di vista commerciale ma che sottolineo è perfettamente compatibile con la versione community quindi nel momento in cui l'applicazione ha bisogno di qualcosa in più quali transparent encryption sistema integrato di auditing sistema di monitoraggio quant'altro di classe enterprise non dovete modificare le applicazioni è immediatamente utilizzabile nella sua versione più diciamo completa quindi abbiamo un prodotto che fornisce le funzionalità necessarie alle applicazioni moderne e lasciatemi sottolineare è presente in due versioni perché le esigenze possono essere diverse abbiamo un database che è quello più conosciuto più classico passatemi la definizione MySQL Enterprise basato su un UDB un RDBMS con funzionalità anche di document store che è quello che probabilmente conoscete molto bene esiste poi una seconda variante chiamata MySQL Cluster Carrier Grade Edition non significa che per mettere in alta disponibilità MySQL avete bisogno di questa versione scusate un attimo la confusione sul nome MySQL Cluster è un in-memory database con accesso anch'esso SQL oppure no SQL che aveva valore con altissima disponibilità e funzionalità estremamente interessanti però ovviamente con un'architettura diversa abbiamo quindi scelto in questa giornata di darvi una panoramica e le ultime novità su questo prodotto grazie alla presenza del mio collega Mirko quindi caliamo MySQL database all'interno di un discorso di sviluppo lo sviluppo è iniziato in modalità monolitica quindi una struttura cascata dello sviluppo un'organizzazione cascata dello sviluppo con server fisici grossi data center che però ha evidenziato immediatamente quelle che erano le problematiche legate alla gestione allo sviluppo la manutenzione eccetera per cui si è spostati sempre di più verso modelli modulari agili con più livelli di accesso il frontend il backend il database per fare un esempio sfruttando molto la virtualizzazione e ambienti hosted non più semplicemente il data center all'interno delle aziende anche questa soluzione questo approccio è stato considerato inadatto quando le esigenze di mercato hanno richiesto maggiore velocità nell'andare sul mercato maggiore velocità nell'adattarsi ai cambiamenti del mondo moderno ecco che quindi l'approccio di dividi e conquista si è ulteriormente espanso andando a identificare non più semplici applicazioni o layer applicativi ma sui servizi che costituiscono le singole applicazioni quindi a livello delle nuove applicazioni non vado più a concentrarmi sull'applicazione in quanto tale ma ogni gruppo di sviluppo si occupa del proprio servizio per esempio gestione del carrello per esempio gestione delle login i profili degli utenti in modo tale che i singoli servizi siano più veloci in ottica di gestione manutenzione aggiornamento si sfrutta di più le architetture a container in modo tale da isolare ancora di più gli ambienti e portarli in un'ottica di cloud e quando parlo di cloud intendo che sia il cloud privato che il cloud pubblico dove le persone interagiscono sempre di più devops è una delle parole chiave in termini non tanto di funzionalità di strumenti ma in quanto di approccio allo sviluppo quindi le nuove applicazioni basate sui cloud le cloud native application si appoggiano su micro servizi container nuovo approccio di sviluppo e un modo diverso di affrontare lo sviluppo e la gestione delle applicazioni diverso significa che dobbiamo considerare come funziona quali sono le sue opzioni micro servizi abbiamo detto che sono piccoli servizi che vengono sviluppati quindi hanno un esistenza un ciclo di vita transitorio sono stateless non hanno dati ho bisogno di aumentare la scalabilità nei stanzi di più ho un crash li riaccendo eccetera eccetera queste funzionalità queste caratteristiche vanno però un po' in conflitto con quello che è l'elemento database perché il database ha dei dati persistenti che vivono a lungo deve garantire consistenza integrità su sistemi avanzati di alta disponibilità un onere importante in termini di risorse se non sto attento a come vado a suddividere bene i dati quindi è giusto dire come calo il database e quindi il MySQL in questo tipo di architetture non è banale quindi la prima domanda che ci si pone quando si parla di database all'interno degli ambienti dei microservizi è dove lo metto dove lo vado a posizionare lo considero parte dell'infrastruttura quindi a livello delle risorse computazionali del network eccetera e viene sfruttato in questo modo dalle applicazioni o lo vado a inserire esso stesso in un container e lo gestisco come un'applicazione i vantaggi nel primo caso sono ovviamente la storia dei database quindi essere un'enorme documentazione che spiega come utilizzarlo il fatto che l'ambiente fisico e virtuale è ben conosciuto per contro rischio di eliminare l'indipendenza di non avere quella indipendenza tra i servizi perché i dati rischiano di essere condivisi quindi se il dato è condiviso un servizio ha bisogno di cambiare l'influenza il comportamento degli altri se invece mi sposto ad avere database all'interno di un container ovviamente ogni servizio può avere il proprio database e di conseguenza garantire l'indipendenza e la flessibilità è altamente portabile perché un container posso usarlo on premise in un private cloud in un public cloud tranquillo ma ovviamente rischio di avere numerosi database e numerose tecnologie da dover gestire come risponde MySQL a questa esigenza anzitutto MySQL sappiate che è molto flessibile e quindi permette di essere sfruttato molto bene in ambiente fisico o virtualizzato infatti è supportato su tutte le piattaforme x86 che si tratti di windows linux che sia ubuntu redhead or linux centos quello che volete voi funziona nello stesso modo supportato anche all'interno del cloud abbiamo una sessione che parlerà proprio di questo grazie al mio collega Vittorio che parlerà di come sfruttare MySQL all'interno degli ambienti cloud pubblici con elementi di scalabilità alta disponibilità nativa ma se lo volete all'interno degli ambienti applicativi è già disponibile in container che sia la versione community o che sia la versione enterprise è supportato nella versione in container quindi nessuna preoccupazione dal punto di vista di business e mantenendo comunque lo zero lock-in perché che sia in infrastruttura o che sia all'interno del container è tutto open source quindi permette di non dover scegliere rigorosamente un approccio piuttosto che l'altro ma questa non è l'unica domanda che ci si pone quando si parla di microservizi la seconda è che tipo di modello vado a utilizzare i microservizi per loro natura hanno esigenze diverse c'è chi ha bisogno di un accesso di tipo SQL per garantire transazionalità c'è chi ha bisogno di un accesso veloce che aveva valore per delle sessioni eccetera eccetera quindi c'è chi ha risposto con dei database dedicati e quindi avere ogni database il proprio o scusate ma ogni servizio il proprio database e in modo che scelga il proprio data model dedicato ma avendo numerosi prodotti dove gestire mantenere portare eccetera oppure un approccio multimodale multimodello dove i servizi si possono appoggiare a un database con dei dati che sono più o meno condivisi e che offre interfacce differenti a seconda del tipo di utilizzo che devo farne quindi che sia SQL piuttosto che SQL che aveva valore document store o quant'altro il contro qua ovviamente è di nuovo il rischio di ridurre l'indipendenza e di centralizzare come rispondiamo come MySQL a questo approccio faccio notare che i primi 8 database più popolari al mondo hanno un approccio multimodello e MySQL che è il secondo non risponde in modo diverso MySQL 8 ha introdotto un'interfaccia CRUD un nuovo protocollo X che permette di avere sia l'accesso tradizionale SQL quindi MySQL 8 può essere in un ambiente tradizionale come nuova major release delle applicazioni esistenti oppure attraverso la connessione su questo nuovo protocollo andare a fornire delle operazioni di CRUD quindi create read delete sugli oggetti json collezioni sfruttando l'acidità nativa di MySQL sfruttando la transazionalità permettendo di avere join tra le tabelle tradizionali e i nuovi documentali quindi un prodotto che è semplice per lo sviluppatore perché non deve aprire sessioni diverse sulla stessa sessione può gestire il documentale piuttosto che il tradizionale SQL con gli ambienti di sviluppo con cui è più a suo agio l'amministratore deve gestire un database MySQL normale quindi termini di amministrazione monitoraggio backup alta disponibilità analogamente con cluster MySQL cluster avete un prodotto con un'interfaccia MySQL quindi SQL ma anche un chiave valore con un accesso estremamente performante real time di conseguenza potete scegliere l'approccio più comodo più adatto al servizio che è necessario implementare nel vostro contesto quindi abbiamo un prodotto che va bene in ambito infrastrutturale piuttosto che in ambito containerizzato va bene in applicazioni legacy ma anche con le nuove applicazioni quindi se avete delle applicazioni legacy che dovete migrare tenete presente che il redesign può essere difficile quindi state attenti alla strategia non affrontate i microservizi di petto studiate e valutate quali sono le esigenze necessarie e per le nuove applicazioni ovviamente non avete questi limiti potete andare immediatamente all'obiettivo definito dell'applicazione la cosa importante è ricordarsi che c'è una nuova cultura c'è una nuova tecnologia da utilizzare un nuovo approccio alla gestione dei dati che devono essere divisi in maniera adeguata in questo senso con MySQL avete degli strumenti che vi permettono di raggiungere meglio quello che è l'obiettivo di definizione del data model il workbench la definizione grafica dei dati la shell uno strumento di prototyping di amministrazione devops potete scegliere liberamente con uno stesso prodotto se avere un approccio SQL no SQL o contemporaneo perché l'approccio di MySQL è bello anche per questo non dovete scegliere in anticipo durante l'evoluzione dell'applicazione applicate quello che vi serve con funzionalità di sicurezza estremamente moderne avanzate e potenti e garantendo comunque semplicità leggerezza e velocità di deploy dovete istanziare un ambiente di alta disponibilità potete farlo nel giro di pochi minuti senza grossa difficoltà grazie agli strumenti e ai wizard integrati quindi un'alta disponibilità nativa funzionante e ovviamente con la possibilità di avere il supporto alle applicazioni legacy non devo cambiare immediatamente tutto ma sono pronto agli ambienti nuovi e moderni quindi se voglio sintetizzare il discorso di MySQL nell'ambiente mister servizi ricordatevi che è un prodotto ampiamente utilizzato non siete i primi a utilizzarlo quindi dopo 25 anni e i clienti che abbiamo state sicuri che è stabile non ha lock-in sposa completamente l'approccio open source e è documentato ampiamente è uno dei prodotti open source per cui se dovete scaricare la documentazione non avete neanche bisogno di registrarvi andate sul sito la leggete e via ha un doppio approccio SQL e no SQL in modo tale che vi permetta di avere libertà di decisione è ottimo sia per gli sviluppatori che si troveranno numerosissime funzionalità all'interno della versione 8 abbiamo più di 250 nuove funzionalità ma anche l'atto DBA è semplice da amministrare e da mantenere l'atto installazione è utilizzabile on premise ma è disponibile anche in versione cloud all'interno dell'oracle cloud è disponibile il nuovo MySQL database service di cui vi parlerà Vittorio che offre le funzionalità di MySQL in un ambiente database service garantendo quindi una pluralità di modelli di esecuzione che siano in una virtual machine in un container garantendo la supporto quando vi servisse e ovviamente community con enterprise quando si parla di MySQL community che ha bisogno del supporto la domanda che viene spesso fatta è proprio questa ma se io devo passare dalla versione community dove ho sviluppato alla versione supportata quali cambiamenti vengono a essere messi in atto di cosa devo preoccuparmi pochissimo installate i nuovi binari enterprise fermate quelli community accendete i binari enterprise se avete i container ancora più semplice fermate il container community accendete il container enterprise sugli stessi dati cioè non dovete fare cambi applicativi non dovete fare cambi di configurazione sui dati e quant'altro avete i binari enterprise partite con quello che è l'attivazione delle funzionalità di monitoraggio backup sicurezza avanzata eccetera eccetera quindi la versione enterprise va a completare quello che è l'approccio MySQL che fino adesso di quello di cui vi ho parlato è community perché il mondo no SQL il mondo di alta disponibilità è completamente community e nel momento in cui avete bisogno di fare il salto in più per la sicurezza la gestione eccetera eccetera l'enterprise è lì pronta a soddisfare le vostre esigenze quindi un database disponibile ovunque disponibile per le varie esigenze delle compagnie piccole quelle grandi per le applicazioni legacy e moderne cioè non avete l'obbligo di scegliere l'uno o l'altra ed enterprise ready con questo vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato e spero di risentirvi presto anche nei prossimi giorni bene grazie adesso rallentiamo un attimo perché abbiamo messo veramente tanta carne sul fuoco Andra ci ha presentato tutte le novità della versione 8 e questo discorso sui microservizi anche se si parla sempre della semplicità del cloud che per carità non neghiamo quando si tratta poi di sviluppo cloud nativo non è tutto così banale e richiede sicuramente una capacità di approfondimento per questo passiamo la palla al pubblico cioè vi chiediamo attraverso un sondaggio di spiegarci qual è la vostra propensione verso le architetture microservizi e le applicazioni cosiddette cloud native è un sondaggio a cui potete rispondere scegliendo le domande direttamente sul display e abbiamo concentrato le possibili risposte su risposte positive almeno su due trend separati cioè i microservizi e le architetture cloud native come strumento anche di modernizzazione di quello che c'è già oppure semplicemente come strumento per progettare il nuovo quindi il cloud nativo in senso stretto mentre aspettiamo che le varie domande si stabilizzano volevo tornare un attimino a Carlessi perché c'era una cosa che mi aveva particolarmente interessato o perlomeno che giudico particolarmente interessante è che lo sviluppo cloud nativo non dobbiamo considerarlo semplicemente come l'adozione di una piattaforma perché poi in alcuni team di sviluppo può esserci questo equivoco non è che se scelgo un prodotto divento cloud nativo poi servono approcci e servono soprattutto mentalità anche organizzative diverse vanno le risposte vogliamo un tuo commento su questo aspetto sì allora c'è tanta confusione a livello di sviluppo delle nuove applicazioni si confonde quello che è l'architettura microservizi dicendo sto usando i container sono in ambito microservizi vado a utilizzare degli ambienti cloud mi ritrovo o vuol dire che sono cloud native in realtà gli ambienti cloud native vanno a sfruttare delle tecnologie è un approccio quindi uno degli elementi importanti è dedicarsi del tempo per comprendere queste nuove tecnologie e queste nuove modalità di lavoro viene richiesta non semplicemente l'adozione di uno strumento l'istrumento è la parte minore è la punta dell'iceberg la parte fondamentale è comprendere l'approccio capire se molto probabilmente devo cambiare anche delle organizzazioni il modulo di lavorare all'interno dell'azienda e le relazioni devo abbandonare quella che tante volte è la contrapposizione tra gli amministratori e gli sviluppatori quindi non si tratta semplicemente di dire ho uno strumento ok sono cloud native sono microservizi è una cosa più complessa se riesco ad approcciarlo nel modo giusto se mi trovo il tempo per farlo ottengo il meglio di questo mondo se voglio se posso usare un esempio veloce per far comprendere quando è nata la virtualizzazione la parola d'ordine era virtualizza tutto non stare a guardare con come lo fai virtualizza virtualizza in realtà come vengono virtualizzate le macchine ha un grosso approccio ha un grosso influenza sulla produzione sullo sviluppo non è la tecnologia che risolve è l'approccio dell'azienda questo è la parte importante grazie nel frattempo direi che le risposte si sono stabilizzate quindi diciamo stop al televoto per usare un termine al X factor e vediamo che cosa è successo io direi che ci sono delle risposte abbastanza la distribuzione delle risposte è abbastanza equilibrata e questo per un certo verso è confortante non abbiamo delle polarizzazioni verso certe cose sì piuttosto che certe cose no come è interessante il fatto che ci sia un quasi 30% di persone che rispondono e dicono microservizi li pensiamo per qualsiasi tipo di sviluppo non solo il cloud nativo tu Marco come vedi come giudichi questi risultati in linea con quello che vedi normalmente dai clienti un commento sì la maggior parte dei clienti vuole l'approccio a microservizi per le nuove applicazioni quindi si sta attrezzando per gli sviluppi nuovi sfruttando le nuove tecnologie non sono tutti già completamente sulla soluzione finale di microservizi però è un trend importante detto questo vedo la risposta A e B il no e il non so non risponde che attorno al 40% e conferma più o meno la nostra esperienza è una tecnologia nuova non tutte le aziende si sono già aggiornate non spaventatevi se non siete già su questa direzione perché stiamo parlando delle soluzioni più recenti sicuramente una delle cose da tenere presente che non è un trend ogni tanto torna fuori ma è sempre stata essenziale e lo è a maggior ragione quando si tratta di gestione delle informazioni è la sicurezza abbiamo visto con Andra che ci sono delle novità della piattaforma pensate esattamente per la sicurezza e c'è molto da parlare per quanto riguarda la sicurezza delle applicazioni cloud native visto che è una logica di microservizi e in un certo senso anche una logica di frammentazione della parte applicativa di gestione delle informazioni per questo abbiamo voluto dedicare uno spazio specifico alla messa in sicurezza degli ambienti MySQL ed è per questo che chiamo sul palco virtuale Michelangelo Berti che ci spiega come proteggere al meglio i database MySQL Michelangelo grazie grazie Francesco io inizio il mio intervento salutando e ringraziando i numerosi partecipanti a questo evento chi mi conosce e chi conosce parte che sa che noi ci teniamo particolarmente e quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato io sono Michelangelo Berti e coordino le attività marketing di Partec una vita fa ormai sono stato un tecnico prima di passare al marketing ho lavorato nella prevenita tecnica e nel technical marketing nel corso degli ultimi vent'anni mi sono occupato di infrastrutture T in ambito telco di cloud computing sicurezza e infine di privacy compliance prima di entrare nel vivo della presentazione permettetevi di rubarmi due minuti per presentare rapidamente l'azienda che rappresento a più di vent'anni dalla sua fondazione parte che oggi è considerato uno dei system integrator più attivi della scena open source italiana siamo un gruppo che riunisce cinque aziende e comprende più di 200 collaboratori che sono distribuiti tra le sedi principali di Roma e Milano ovviamente in questo momento sono più distribuiti nelle proprie abitazioni per anche gestire la situazione che tutti conosciamo la nostra offerta include prodotti competenze e servizi in quali ambiti quelli dell'infrastruttura IT delle soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario dell'industria 4.0 più recentemente della security e anche dell'educational la collaborazione con Oracle è iniziata dieci anni fa ma in realtà ha delle radici molto più lontane l'attuale business unity di Roma nacque negli anni 90 come partner di riferimento di Sun Microsystems e operava principalmente sul mercato delle principali telco italiane dall'epoca siamo cambiati tanto quindi siamo passati da una competenza che all'epoca era più incentrata su Solaris ad un ampio ventaglio di competenze che coprono in particolare anche il mondo dei database Oracle attualmente siamo Oracle Partner con la recente specializzazione su MySQL 8 prima era quella basata sulla 5.7 l'abbiamo recentemente aggiornata come potete vedere dalla lista dei clienti possiamo vantare una forte presenza nei mercati telco e finance ma abbiamo anche all'attivo numerose collaborazioni con i principali system integrator che operano anche con Italia i mercati telco e finance però non sono gli unici ai quali ci rivolgiamo e infatti potrete facilmente riconoscere i nomi di alcune note realtà in ambito pubblico amministrazione sanità e non solo veniamo ora all'argomento al vivo della mia presentazione inizio con questa immagine molto zen per dirvi cosa che la sicurezza che è appunto rappresentata con questa immagine dipende dal costante equilibrio di tre elementi abbiamo la compliance cioè la conformità alle normative vigenti e l'adozione delle best practice internazionali e su questa si vanno appoggiare la formazione del personale che quotidianamente usa i nostri sistemi e tratta dei dati personali e anche la tecnologia che scegliamo per proteggerci se uno di questi elementi viene trascurato il risultato sarà uno solo queste pietre cadranno tenete a mente che ogni volta che leggete la notizia di un data breach o di un grave disservizio in realtà state leggendo il resoconto della caduta di queste pietre poco fa ho usato una parola che probabilmente vi sarete anche stancati di sentire compliance o per dirla in italiano conformità quando parlo di regole di conformità mi riferisco esplicitamente sia alle normative orizzontali cioè quelle valide per tutti sia a quelle di riferimento per i vari settori dell'industria quella che ci tocca più da vicino è certamente il GDPR il regolamento europeo prescrive numerosi accorgimenti che vanno ben oltre la tecnologia e soprattutto come già saprete prevede delle sanzioni importanti per le aziende che non si adeguano chi invece lavora nel settore finanziario conosce sicuramente le normative PCI-DSS e SOTS che sono di impostazione americana la protezione dei dati sanitari che è un sottoinsieme specifico di dati particolari e invece lo scopo principale della normativa IPA anch'essa americana cosa hanno in comune queste normative? intanto la definizione di polisi puntuali per la gestione degli accessi e delle autorizzazioni la protezione scusate delle informazioni particolari mediante sistemi di cifratura e pseudonymizzazione la corretta conservazione e gestione dei dati e infine il monitoraggio continuo di tutte le attività come parte di un costante e dinamico processo di miglioramento è giusto specificare che quando parlo di dati particolari mi riferisco a quelli che fino al 2018 conoscevamo come dati sensibili con l'avvento del GDPR la definizione è cambiata e anche noi dobbiamo adeguarci e abituarci a questa nuova nomenclatura sapete meglio di me che proteggere un database significa applicare una serie di strumenti di difesa che a volte esulano dal database stesso numerose normative e best practice ci dicono esplicitamente che dobbiamo garantire gli abituali tre pilastri riservatezza integrità e disponibilità ma tipicamente non entra nel merito delle specifiche implementazioni beh intanto bisogna partire sempre dalla cifratura dei canali di comunicazione è un elemento imprescindibile ma rappresenta solo uno degli ingredienti della ricetta l'obiettivo di questo intervento è piuttosto scontato proteggere tutti i dati di transito per evitare che vengano letti o manipolati durante il tragitto ovviamente mi riferisco sia alle connessioni applicative che a quelle degli utenti perché sono entrambe soggette ad attacchi di varie forme una seria gestione degli accessi deve includere almeno l'utilizzo di credenziali personali che siano di dominio possibilmente che rispettino tutta la best practice del caso ma anche la configurazione dei permessi di lettura e scrittura tutte le cosiddette grant in alcuni casi in alcuni casi le sole credenziali non bastano e dobbiamo applicare anche una strong authentication cioè un metodo di autenticazione più robusto che va ad associare qualcosa che sappiamo a qualcosa che abbiamo ad esempio le credenziali di dominio più una smart card o un one time password sul cellulare i plugin di autenticazione su MySQL ci offrono grande libertà nella scelta dell'authentication provider impostare però delle regole molto stringenti è del tutto inutile se non monitoriamo costantemente ciò che accade ciò che viene fatto quindi è doveroso utilizzare strumenti come il MySQL Enterprise Audit che permette di andare ed effettuare un monitoraggio degli accessi e delle attività svolte in maniera anche molto dettagliata la cifratura del database protegge i cosiddetti dati a riposo cioè quelli memorizzati dallo storage engine in MySQL parliamo di TDE o Transparent Data Encryption che prevede la cifratura dell'intero table space in ODB sicuramente non possiamo migliorare la cifratura dei backup un passaggio fondamentale per evitare che altri tecnici non autorizzati accedano alle informazioni in essi contenute la pseudonimizzazione come certamente saprete è uno dei capisaldi del GDPR consiste nell'offuscamento di quei dati particolari che dovrebbero essere mostrati solo e soltanto a chi dispone di permessi elevati o eventualmente solo in determinati fragenti facciamo un esempio offuscando il nome e cognome della persona o qualunque altro dato identificativo come il codice fiscale si riesce a disaccoppiare il dato personale della persona stessa evitando così di arrecarle un danno se questi dati vengono esposti in qualche modo infine dato che sempre più attacchi sfruttano dei bug applicativi sarebbe bene introdurre un database firewall che vada a ispezionare il traffico in ingresso per identificare e bloccare qualunque operazione sospetta o non prevista pensate ad esempio ai danni che tutt'oggi fanno i banali attacchi di tipo SQL injection sembra assurdo se ne parla da tantissime ne penso una ventina e ancora continuiamo a doverli fronteggiare entriamo nel dettaglio di queste singole contromisure iniziamo con i primi due aspetti da proteggere la connessione al server e l'autenticazione degli utenti si tratta di funzionalità disponibili anche nella community edition perciò potete usarli anche senza una subscription di tipo enterprise la cifratura delle connessioni assicura la riservatezza dei dati in transito e protegge dagli attacchi di tipo man in the middle li conosciamo molto bene la connessione tra client e server è cifrata con protocollo TLS mediante l'ausilio del noto modulo OpenSSL anche questa è una componente open source famosissima non si applica solo ai client dei DBA ma anche alle comunicazioni tra i sistemi master-slave di base la cifratura può essere richiesta dai singoli client o dal server ma il mio consiglio è quella di renderla obbligatoria medante la configurazione del parametro che trovate lì riportato nella slide vi ricordo che il parametro va impostato sul file di configurazione del server è inoltre possibile utilizzare i classici certificati X509 rilasciati da una certification authority riconosciuta indifferentemente interna o pubblica e questa possiamo utilizzarla per identificare con certezza gli utenti e i sistemi che si stanno collegando anche se non riguarda strettamente le connessioni cifrate vi suggerisco vivamente di impostare il parametro bind address per indicare l'unico indirizzo IP sul quale accettare delle connessioni è particolarmente importante quando MySQL gira su un server con più indirizzi configurati indifferentemente i pv4 e pv6 l'autenticazione integrata è invece il metodo più diffuso e semplice da implementare di fatto abbiamo la classica copia di credenziali username e password memorizzate nella tabella user le password sono cifrate nativamente con l'algoritmo SHA1 o tramite un apposito plugin con l'algoritmo SHA256 le versioni più recenti hanno seriamente irrobustito la gestione di queste credenziali includendo ad esempio delle politiche per la gestione della scadenza o della rotazione della password la robustezza della stessa e il blocco delle utenze quando queste policy non vengono rispettate a differenza delle cose che vi ho detto fino adesso l'enterprise authentication è una feature specifica di MySQL Enterprise Edition perciò non la troverete sulla versione comunitaria in pratica vi consente di integrare il vostro MySQL con un'infrastruttura di sicurezza esistente consentendovi quindi di gestire centralmente le utenze e le relative policy di fatto sgrava i nostri DBA da qualunque responsabilità anzi più o meno da un'enorme responsabilità legata alla gestione delle password l'autenticazione esterna può avvenire mediante supporto nativo ad Active Directory o eventualmente grazie ai Linux Plugable Authentication Modules PAM che di fatto sono consente di integrare altri credenzial store tra questi troviamo ad esempio le classiche Linux password appunto del sistema operativo Home Directory e LED App diverso da Active Directory i nostri DBA dovranno comunque creare delle utenze interne prive di password stavolta che verranno mappate con la loro utenza esterna a queste utenze poi dovremmo assegnare i permessi per svolgere operazioni sui singoli database ricordiamoci che una sana gestione delle grant cioè quindi dei permessi di dettaglio è sempre fondamentale l'Enterprise Audit è uno strumento che invece potenzia il generico logging del sistema di MySQL ed è disponibile solo nell'Enterprise Edition cosa va a fare? traccia le connessioni le autenticazioni e anche le singole query e consente di fare delle analisi forensi in caso di data breach o incidenti di varia natura io vi ricordo che il GDPR identifica come data breach qualunque compromissione alla riservatezza all'integrità e alla disponibilità dei dati perciò include anche una banalissima cancellazione accidentale dovuta a una query errata quindi come vedete è fondamentale capire cosa succede intorno a noi l'Enterprise Audit è particolarmente potente e offre delle funzionalità di ricerche e filtraggio molto avanzate inoltre supporta l'esportazione dei dati anche verso sistemi esterni così da rispettare eventuali altre polisi di archiviazione e consentire l'analisi ai team di sicurezza che magari utilizzano un SIEM particolare o un oggetto realizzato ad hoc si tratta di uno strumento fondamentale per implementare i rigidi controlli di sicurezza imposti dalle principali normative mi riferisco quindi nuovamente al GDPR IPA per il settore sanitario PCI DSS per quello finanziario e così via di fatto include una serie di template preimpostati che sono utili proprio per garantire questo tipo di compliance so che molti di voi tendono a chiederselo l'abilitazione dell'audit comporta un bassissimo overhead computazionale e inoltre essendo compressi i file non andranno a saturare velocemente il disco del server e inoltre è sempre possibile impostare dei limiti e delle regole di rotation così da controllare finemente ciò che accade anche in termini di spazio occupato parlando di monitoraggio e controllo non possiamo non citare il MySQL Enterprise Monitor è uno degli strumenti più utili e forse più polivalenti che sono inclusi nella sottoscrizione Enterprise ma troppo spesso viene ignorato oppure sottutilizzato fatemi dire l'Enterprise Monitor consente di controllare ogni aspetto della vostra infrastruttura basata su MySQL include il monitoraggio per il cluster mi riferisco a NDB Cluster di cui parlerà Mirko più tardi le repliche sia quelle Active Passive che la Group Replication consente di gestire il backup analizzare le performance e anche le enterprise auditi di cui abbiamo appena parlato ma anche il database firewall di cui parlerò tra pochissimo ha una funzionalità utilissima chiamata Advisors basandosi su tutte le best practice definite da Oracle riesce a fornire in tempo reale lo stato di vulnerabilità del sistema e inoltre ci supporta nell'esecuzione dell'hardling infatti per ogni problema viene fornita una descrizione puntuale in riferimento alla documentazione tecnica e il miglior suggerimento per risolverlo ad esempio la modifica di un file di configurazione oggi vi sto parlando di sicurezza ma sappiate che gli advisors si riferiscono anche a molti molti altri aspetti della gestione di MySQL perciò io vi invito a approfondire l'argomento e iniziare a usarlo perché è veramente uno strumento preziosissimo tra le luminose funzionalità di monitoraggio ne troviamo alcune particolarmente utili possiamo ad esempio ricevere alert specifici per variazioni in attese allo schema o alla configurazione possiamo ottenere sotto controllo il backup e verificare l'attività degli utenti io quindi non smetterò mai di dirvelo ma Marco e gli altri saranno d'accordo abituatevi ad usare l'enterprise monitor perché è davvero uno strumento che può cambiarvi la vita la transparent data encryption è una funzionalità dell'enterprise edition che è studiata per assicurare la riservatezza dei dati anche in caso di furto dei dischi dei file del database o dei loro backup che poi devono essere cifrati a loro volta grazie al MySQL Enterprise Backup il sistema si basa su un'architettura di cifratura a due livelli abbiamo una tablespace salvata nell'header del tablespace che viene cifrata mediante una masterkey salvata su un sistema di gestione centralizzato come ad esempio l'oracle key vault la masterkey potrebbe anche essere salvata localmente ma come potete facilmente intuire sarebbe come mettere le chiavi di casa sotto lo zerbino una volta abilitato e configurato cifra i dati prima che questi vengano scritti sul supporto fisico e li decifra al momento della lettura è detta trasparente perché ogni operazione viene fatta automaticamente pertanto la user experience per DBA ma anche per i sviluppatori rimane del tutto invariata ricordate questa è la caratteristica principale nessuna variazione alla user experience al pari dell'entreprise audit è uno strumento fondamentale per rispettare i requisiti di riservatezza delle informazioni che sono previsti da più o meno ormai tutte le normative internazionali e in particolare il GDPR esistono due requisiti importanti dobbiamo usare lo storage engine in UDB configurato per avere un singolo file per tabella e inoltre dobbiamo usare il keyring plugin per gestire la master key ma soprattutto per gestire la rotazione c'è la sua modifica periodica prima che me lo chiediate preciso subito che dalla versione ottenpoi la cifratura è stata estesa anche ai binary log e relay log che sono usati principalmente a parareplica e inoltre anche a redo log e gli undo log l'enterprise encryption è il nome del set degli strumenti dell'enterprise edition che consentono di cifrare e decifrare i dati che vengono poi salvati nel database io vi invito a non confonderla con la transparent data encryption vista poco fa questa cifra è il contenuto non il contenitore cioè il table space offre dei meccanismi di cifratura simmetrica o asimmetrica basati su chiave pubblica o privata consente inoltre di generare le chiavi anche appoggiandosi a un sistema esterno come l'ora colchivolt consente di firmare digitalmente dei dati e verificarne l'autenticità nel diagramma trovate un flusso molto generale che si applica a svariati casi d'uso facciamo l'esempio di un ospedale visto che adesso il tema è assolutamente caldo i medici usano un software per la gestione della cartella clinica dei propri pazienti all'interno della cartella clinica troviamo dei dati particolari che né altri utenti al di fuori del medico del paziente né i DBA devono poter vedere l'applicazione utilizza le funzionalità native di MySQL per cifrare i dati prima che questi vengano scritti sul file quindi dallo storage engine sul disco e poi li vanno a decifrare solo nel momento in cui ne avranno nuovamente bisogno come potete intuire questo rappresenta uno strumento eccezionale per essere compliant con le normative di riferimento nel nostro settore io vi ho citato dei dati sanitari ma avrei potuto parlarvi dei numeri di carta di credito o di qualunque altro dato sensibile o classificato l'enterprise masking è una delle funzionalità più recenti sviluppate fatemi dire a furor di popolo molto richieste soprattutto dopo l'approvazione del GDPR perché vi parlo del GDPR? per il semplice motivo che la pseudonimizzazione dei dati è stato uno dei temi caldi che ha messo in crisi molti moltissimi reparti T il maschiramento dei dati è un'operazione che è sempre stata demandata alla logica applicativa questo approccio ha svariati limiti è inutile dirlo i dati viaggiano in chiaro e poi basta un bug dell'applicazione per renderli facilmente accessibili in più dobbiamo replicare quella logica su tutte le applicazioni aumentando sensibilmente i costi di sviluppo ma anche di mantenimento oltre che i rischi di cui vi ho già parlato applicare queste logiche direttamente sul database consente di gestirli centralmente e andare a semplificare tutte le operazioni di mantenimento un altro tipico caso d'uso riguarda ad esempio l'export di un subset dei dati di produzione verso gli ambienti di testo sviluppo ora è finalmente possibile effettuarlo senza però andare a compromettere la riservatezza dei dati che andiamo a esportare è possibile applicare numerose logiche di offuscamento che vanno dalla banale sovrascrittura dei caratteri alla sostituzione basata su valori casuali sul dizionario su intervalli di valori e altro ancora prima vi ho citato il GDPR ma vi assicuro che l'esigenza esisteva da anni basti pensare ai social security number americani o ai numeri di carta di credito in basso vi ho riportato il link alla pagina del manuale che riporta i vari casi d'uso io vi invito a leggerla perché è molto interessante dato che siamo tutti molto impegnati e fatemi dire a volte un po' pigri ho deciso di riportarvi direttamente alcuni esempi estratti dal manuale il primo esempio mostra un classico offuscamento del numero di una carta di credito quello che vi dicevo prima come vedete sono visibili sulle ultime quattro cifre questo scenario lo avete incontrato mille volte anche quando magari andate a fare acquisti su Amazon il secondo esempio è invece tipico del mercato americano e riguarda l'offuscamento del social security number l'equivalente del nostro codice fiscale il terzo esempio invece mostra una funzione diversa dall'offuscamento mostra la generazione di un indirizzo email casuale questo è particolarmente utile per avere dei record contenenti dati conformi a un certo formato ma non necessariamente reali è il tipico scenario che dovremmo avere quando importiamo dei dati dal sistema di produzione e vogliamo rispettare la privacy dei nostri utenti notate che alle due funzioni maskpan e maskssn abbiamo passato una funzione di generazione di dati randomici ovviamente si tratta di un esempio nel mondo reale avremmo avuto il nome del campo o direttamente la stringa esattamente il numero della carta di credito o il social security number cosa possiamo fare con queste funzioni non è un puro esercizio di stile oltre ad usare all'interno delle nostre query possiamo creare delle viste dedicate alle nostre applicazioni questo è esattamente ciò che facciamo nell'ultimo esempio di fatto creiamo una vista che contiene già al suo interno un campo basato sull'output di una di queste funzioni di mascheramento l'utente o l'applicazione che interroga la vista come ha sempre fatto ottiene i dati già offuscati il passo successivo se non l'avete già fatto e far sì che le nostre applicazioni smettano di interrogare la tabella principale e acquisiscano i dati direttamente dalla vista che abbiamo creato questo ci aiuta a limitare i danni anche in caso di SQL injection se una query malformata esponesse l'intero result set i dati sarebbero comunque inutilizzabili quindi questo è esattamente quello che vi dicevo spostare la logica di riservatezza di offuscamento direttamente a bordo del database e non demandare tutte le applicazioni l'enterprise firewall è uno degli strumenti inclusi nell'enterprise edition che personalmente preferisco come dicevo durante la panoramica il nostro database è un castello che viene continuamente attaccato sia dall'esterno ma anche dall'interno le minacce esterne sono quasi sempre rappresentate da bug applicativi di SQL injection lo sappiamo è inutile ripeterlo le minacce interne però sono qualcosa di più complicato da gestire possono essere rappresentate da nostri colleghi che ad esempio abusano dei propri privilegi per accedere a dati che non li riguardano o nei casi peggiori per fare una vera e propria esfiltrazione di questi dati vi ricordo che l'insider threat cioè la minaccia interna non è necessariamente un dipendente curioso o infedele come abbiamo detto ma potrebbe anche essere un povero collega vittima di furto di credenziali o magari un collega che ha un malware installato sul proprio computer tutte queste casistiche nessuna esclusa rientrano pienamente nella definizione di data breach analizzando tutto il traffico SQL in ingresso l'enterprise firewall ci consente di individuare e anche bloccare in tempo reale tutti gli statement anomali cioè tutti quelli che non sono stati preventivamente approvati e inseriti in una white list un aspetto fondamentale dell'enterprise firewall è che è completamente trasparente perciò non ci sono problemi di compatibilità con il linguaggio di programmazione il framework di sviluppo scelto né con le applicazioni di terze parti inoltre è molto importante è integrato in ogni stanza e scala scala con la nostra applicazione scusate con la nostra installazione una volta attivato l'enterprise firewall può assumere tre diverse modalità di funzionamento la prima è quella utilizzata per la fase di configurazione iniziale ci consente di fare il primo training del nostro sistema mediante la creazione di una white list la white list è generata per singolo account così possiamo facilmente distinguere tra un'utenza applicativa e quella di un utente reale ed è popolata durante questa fase in cui il sistema va a registrare tutto e ci consente di definire ciò che per noi è accettabile e ciò che invece non lo è in modalità protect il firewall consente la sola esecuzione degli statement sequel precedentemente inseriti in questa white list in white list e blocca tutti gli altri sia chiaro per statement intendiamo un pattern non nell'esatta query con i suoi valori puntuali quindi ci saranno dei placeholder al posto del valore specifico ad esempio nella clausola where la modalità detect è un po' più morbida perché consente l'esecuzione di tutti gli statement ma traccia come sospetti quelli al di fuori della white list il tracciamento all'interno dell'error log ci permette di fare una verifica a posteriori e prendere eventuali decisioni decisioni di che tipo ad esempio di correggere di integrare la nostra white list oppure di iniziare ad adottare un approccio un po' più robusto perché notiamo una grossa percentuale di attacchi come vedete è uno strumento veramente semplice da usare ma anche molto potente perché dopo una prima fase di apprendimento può realmente proteggervi da qualunque tentativo di attacco o abuso se così vogliamo dire a prescindere dalla provenienza della minaccia quindi applicazione web MySQL Workbench nel caso di utilizzo dall'interno e così via io a questo punto ripasso la parola a Francesco e vi ringrazio per l'attenzione bene grazie Michelangelo ti lascio riposare un po' perché ci hai detto veramente tante cose però poi torno subito perché questa è la teoria diciamo le best practice volevo parlare poi della pratica do nel frattempo due informazioni di servizio la prima è che stanno già arrivando diverse domande non stiamo rispondendo adesso perché le teniamo tutte per la sessione domande e risposte finale quindi continuate a mandarle e risponderemo magari non a tutte perché il tempo è quello che è e magari le domande proprio specifiche specifiche su alcune implementazioni vi invito già ad adesso poi a porle direttamente ai relatori che comunque riceveranno tutte le domande che state ponendo seconda informazione di servizio alla fine della sessione domande e risposte o durante la sessione domande e risposte vi presenteremo un link che vi porterà poi a un sondaggio di oracle chi risponderà avrà quella che io definisco una gradita sorpresa ma siccome è una sorpresa ne parliamo poi dopo torniamo a Michelangelo perché volevo appunto farti questa domanda non faccio finta di aver capito tutto quello che hai spiegato perché non è esattamente così però tu hai spiegato Rebest Practice e ci hai dato la sensazione che gli strumenti per mettere in sicurezza i dati esistono dopodiché quando esci dall'ufficio e vai in mezzo ai clienti cosa vedi adesso non andando in profondità sui segreti aziendali ma per avere un polso magari se poi anche gli altri relatori vogliono dare il loro contributo un polso di quello che succede nella realtà poi allora io per il tipo di lavoro che svolgo non vado tipicamente a fare consulenza dei clienti opero come advisor ma tipicamente non è il mio lavoro principale quello che però posso dirti è che quando abbiamo parlato di questo argomento in altre occasioni ho ricevuto una serie di domande e anche una serie di dichiarazioni da parte del pubblico che evidenziavano due problemi il primo è che in realtà c'è una scarsissima conoscenza dei modi in cui i dati possono essere sfiltrati anche dall'interno il concetto di insider threat è sconosciuto ancora a troppi manager nell'IT è una cosa che mi stupisce ogni volta inoltre molti utilizzatori dell'enterprise edition in realtà non riescono a non so perché non sfruttano effettivamente tutte le funzionalità che hanno a disposizione anche quelle più facili da realizzare per esempio vi parlavo della transparent data encryption che non comporta nessun overhead quindi in realtà a volte c'è proprio un problema di mancanza di informazione mancanza di conoscenza quindi il nostro ruolo come evangelizzatori in tal senso è fondamentale la seconda cosa è che a volte c'è paura mi è capitato che alcuni alcuni clienti dicessero candidamente che non non utilizzano certe funzionalità perché temono appunto l'overhead temono che poi questo cambi la user experience per i propri DBA temono di fare qualche pasticcio che li porti alla perdita dei dati questo ovviamente per noi non ci fa piacere sapere che c'è questa paura però dall'altra parte ci offre una grande opportunità sia agli eventi nei momenti di incontro sia durante i nostri corsi di formazione sia quando i miei colleghi o persone come Marco e Vittorio vanno a fare attività presso il cliente hanno l'opportunità di correggere queste storture fatemi dire queste mancanze e andare a innalzare il livello di sicurezza delle installazioni presso i clienti questo però è ciò che io osservo da una parte della barricata Marco Vittorio e Mirko ci potranno raccontare altre tonnellate di storie ovviamente facendo attenzione a non fare disclosure sui nostri clienti lascio la parola a loro magari ma sì intervengo brevemente beh sì in effetti io lavoro in supporto e quindi supporto sistemi MySQL MySQL and Bcluster tra le varie poi noi troviamo in genere dei buoni livelli di messa a punto con delle policies di backup corrette ma troviamo anche situazioni a volte che sono curiose per esempio una di quelle più divertenti che ricordo era un ransomware che aveva crittato la data directory di un MySQL server quindi un virus direttamente aveva avuto accesso libero nell'host quindi la data directory era persa poi ovviamente fortunatamente in questo caso questi problemi sono risolvibili se c'è un buon backup ma a quel punto il cliente comunque deve conoscere bene il backup capire come fare un point in time recovery per avere il restore fino all'ultimo dato possibile ecco però ci sono situazioni di questo genere che si verificano quindi non è solo sicurezza in termini della base di dati ma dell'host stesso se devo dire la mia dei punti forza di MySQL e se volete anche il suo punto debole è che è facile da installare lo prendi next 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 funziona ah guarda che bello è online ho il database ho la transazionalità ho le funzionalità che mi servono il che porta a volte a sottovalutare la situazione io uso questo esempio MySQL è semplice ma non banale sono due parole diverse il manuale ha superato le 6.000 pagine e parlo del manuale del database non il manuale del monitor il manuale del backup il manuale più di 6.000 pagine è facile utilizzare sì ma come ho detto anche nel cercato di dire anche nell'introduzione nella mia parte sui microservizi troviamoci il tempo per capire la tecnologia studiare vedere cosa ci offre a volte i clienti sono sorpresi perché adesso dico una cosa particolare esiste un modulo nella versione open source quindi non parlo neanche della versione commerciale che protegge dai brute force attack sulle password è in versione open source esiste dalla versione 5.7 cioè a volte trovo veramente che la semplicità di MySQL lo fa sottovalutare ma le funzioni sono lì questo è quello che a volte sorprende quando vai a parlare con i clienti gli fai una presentazione come la tua che hai fatto Michelangelo e dicono ah ma io non sapevo che c'erano tutte queste cose questa è la frase che sento più spesso ah ma io non lo sapevo sì ecco Marco se mi posso ricollegare a quello che stai dicendo tu la cosa che ci ritroviamo molto spesso a fare è non solo per quanto riguarda MySQL è evangelizzazione sulla sicurezza perché sia per quanto riguarda la sicurezza del database che la sicurezza in generale quello che io personalmente ho potuto riscontrare più e più volte non solo per quanto riguarda MySQL ma in una decina d'anni buoni di lavoro nell'IT è che la sicurezza è molto spesso ancora nel 2020 troppo sottostimata quindi è molto spesso demandata a degli strumenti che sono buttati lì e che da soli non lavorano ecco perché come dicevi tu per i microservizi anche la sicurezza è una filosofia è un approccio mentale che purtroppo sono amareggiato a doverlo dire molto spesso viene viene lasciata come ultima ruota del carro laddove lì non dovrebbe essere tu che segui il mercato anche est Europa Russia e così via anche lì la situazione della sicurezza è così o siamo solo in Italia no non è solo l'Italia ecco è una tendenza è una tendenza generalizzata che la sicurezza tutti sanno che è importante ma nessuno le dedica il tempo che meriterebbe davvero o molto pochi le dedicano il tempo che meriterebbe davvero mi è capitato a volte mi viene anche da dire un cliente pagante ha delle funzionalità sono tutte incluse il modello di vendita di MySQL non è quello del si attiva una funzione rischio di pagarlo è tutto incluso è già lì ok devi semplicemente decidere se lo vuoi usare o non usare è completamente libero non sai come funziona una certa cosa contatta supporto ce l'hai fai una domanda scusate ma vorrei implementare questa cosa mi date qualche indicazione mi date una non è un aggravio di costi sono già lì le hai già pagate queste cose il supporto l'assistenza le cose poi quando dovrai andare a implementarlo dal vero perché hai un'architettura particolare chiami servizi professionali sono bravissimi quelli di Partec e ti fanno un progetto il progetto completo ti fanno l'analisi di dettagli eccetera però intanto comincia a sviscerare i vari aspetti gli elementi di base o farti dei chiarimenti questo secondo me sfruttare le occasioni che abbiamo gratis richiedono soltanto un po' di tempo lo so forse la risorsa più costosa nel 2020 è il tempo però è importante noi non perdiamo occasione per ribadirlo per evangelizzare sulla sicurezza ci sono allora le aziende che se ne occupano che mettono mano alla sicurezza ci mettono mano veramente bene devo dire ho trovato delle punte di diamante in giro come un'azienda che aveva mezzo milione di regole di firewall però purtroppo dall'altra parte c'è chi non ha tempo e mi viene da citare la vignetta dei due uomini primitivi che spingono il carretto poi arriva quello con la ruota e loro gli dicono no non ci scocciare stiamo lavorando qui purtroppo ecco magari mettere mano dedicare un decimo della giornata a queste cose potrebbe rivelarsi molto 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 utile ecco un ultimo commento chiedo ad Andra ma giusto per come dire tirare le file di tutto questo anche tu hai questa percezione che gli strumenti a disposizione ci sono serve evangelizzare serve spiegare perché gli utenti di qualsiasi dimensione perché poi non faccio una questione di grandi aziende piccole aziende li mettano in pratica tu come la vedi? sono sicuramente d'accordo con i miei colleghi ed è il motivo per cui ho anche ribadito questo nella mia presentazione ricordiamo sempre quali sono le funzionalità già incluse nella sottoscrizione Enterprise proprio per dare l'occasione ai clienti di poterle sfruttare pienamente ovviamente quella della sicurezza è il tema più importante ma non dimentichiamoci anche degli altri strumenti di gestione ovviamente adesso stiamo parlando della versione on premise questo sarà disponibile anche in cloud per i clienti interessati a un servizio gestito in quel caso la sicurezza è anche una garanzia perché è in mano al provider in questo caso come Oracle per cui c'è da stare più tranquilli ma comunque le misure di sicurezza di MySQL vanno sicuramente messe in piedi soprattutto per un discorso di compliance con i regolamenti in vigore come per esempio il GDPR ecco volevo dire l'ultimissima nota che stavo dimenticando di citare se andate sul sito di MySQL trovate anche alcuni documenti che vi possono aiutare per le funzionalità dei PCI DSS per implementare le policy piuttosto che la GDPR ci sono alcuni pdf che possono darvi delle idee da cui partire per poi implementare visitate il sito guardatelo ecco Andra ci ha come dire aperto la strada verso la prossima presentazione perché sicuramente sicurezza dei dati in cloud è uno anche dei temi dei sottotemi caldi della protezione dei dati e lì adesso andiamo a parare con la prossima presentazione quindi passerei la palla a Vittorio per la sua parte Sì grazie Francesco molto gentile e adesso per la prossima ventina di minuti parliamo di MySQL database service quindi di piattaforma gestita sul cloud questo questo è il safe harbor statement classico di oracle che è qui in quanto durante questa presentazione vi aprirò anche una piccola finestra sul futuro quindi su quello che ci aspetta chi sono io mi presento io sono mi chiamo Vittorio cioè e lavoro come consulente prevendita per MySQL come ha detto Marco sia sull'Italia in piccola parte ma principalmente su altre regioni est europee in quanto vivo a Varsavia e sono con MySQL e oracle dal 2017 fino al lockdown il mio lavoro comportava una buona buonissima parte di viaggio che è una cosa che io personalmente adoravo quindi spero si riesca a riprendere i cieli il prima possibile ora di cosa vi voglio parlare oggi parleremo brevemente delle diciamo delle tendenze di mercato poi ci addentreremo in quello che è lo specifico del MySQL database service e poi vedremo quali sono i possibili sviluppi di questi scenari quindi come già anticipato Andra qualche presentazione fa il mercato si sta spostando verso il cloud ma non solo l'archiviazione dei dati in generale si sta spostando verso il cloud anche i database come piattaforma si stanno muovendo verso il cloud e ricollegandoci a quello che ha detto Michelangelo dal sondaggio che viene riportato qui in sovraimpressione sondaggio una survey fatta da CXO il driver principale che sta facendo sì che le aziende stanno guardando al cloud sempre di più come infrastruttura gestita dove spostare i servizi di database è la sicurezza ebbene sì signori la sicurezza ancora più della riduzione dei costi della scalabilità dell'incremento di performance e quant'altro quindi si pronostica che proprio in virtù di un aumento di sicurezza il 75% delle aziende sposteranno i loro database sul cloud fino al 2022 quindi non dico dopo domani ma quando si tratta di migrazioni il 2022 può essere considerato la settimana prossima ecco quindi nel panorama dei database come è stato appunto detto in precedenza i database open source fanno la parte del leone per tutti i motivi che Marco vi raccontava durante la sua presentazione quindi perché sono aperti perché sono facilmente integrabili e appunto tra i database open source la parte del leone la fa MySQL quindi MySQL non solo come oggetto da deployare on premise ma da oggi anche come oggetto gestito in quello che è MySQL database service disponibile presso Oracle Cloud che se vogliamo è una delle ultime novità infatto di database gestiti in cloud che appunto va ad alleviare a tutti quelli che erano i mal di testa di un sistema di BMS on premise che appunto sono il fatto che MySQL database service è al 100% gestito e mantenuto dal MySQL team è basato sull'enterprise edition è compatibile al 100% con l'on premise sia enterprise che community ed è supportato dal team originale di MySQL quindi MySQL database service si trova viene ad essere una delle punte di diamante dell'offerta cloud di Oracle ma viene ad essere anche l'unico servizio MySQL gestito che è originato appunto dallo sforzo condiviso dell'unico vero e solo team MySQL quindi MySQL database service è un servizio che è di facile deployment di facile installazione che fornisce tutte le ultime versioni in termini di stack di tecnologia sottostante sia in termini di versione del database sfrutta la sicurezza i meccanismi di sicurezza intrinseci in Oracle Cloud come possono essere appunto la non esposizione verso il public internet del traffico database la suddivisione delle reti e tutta una serie di altri meccanismi di sicurezza che sono appunto intrinseci in Oracle Cloud e poi sfruttando la versione enterprise ha le potenzialità per sfruttare appieno tutti i meccanismi di sicurezza propri del MySQL Enterprise di cui Michelangelo vi ha parlato quindi andiamo a vedere quali sono i casi d'uso principali per MySQL database service quindi andiamo a vedere per che cosa si può sfruttare maggiormente MySQL database service principalmente per tutti i possibili casi d'uso database quindi sia che se ci vogliamo mettere ci vogliamo posizionare in ambito di sviluppo applicazioni cloud native perché come visto dal sondaggio si sta pensando a microservizi tecnologie cloud native e quant'altro per le nuove applicazioni sia per spostare i workload esistenti verso una piattaforma cloud che è un approccio molto comune in quanto oltre al discorso del risparmio o meno in termini economici per moltissime aziende spostarsi verso il cloud rappresenta alleviare numerosi mal di testa connessi ed intrinseci con non solo la gestione del database in se per sé ma la gestione della piattaforma gli aggiornamenti e quant'altro oppure se si vuole passare ad un discorso di cloud ibrido quindi i servizi che sono on premise resteranno on premise ma alcuni altri servizi come ad esempio il database sia per esigenze di disaster recovery oppure per un discorso di pluralità delle piattaforme si vogliono spostare in una piattaforma cloud quindi appunto in questo caso MySQL offre 100 per MySQL database service offre compatibilità totale con i vostri MySQL on premise in quanto i binari che sono alla base sia dell'uno che dell'altro sono completamente identici oppure diciamo MySQL database service è ideale anche per un discorso di SaaS application quindi se io voglio sviluppare che è una cosa molto popolare con i software vendor se appunto si vuole sviluppare un servizio SaaS da poter offrire ai clienti ecco così come MySQL rappresentava l'alternativa ideale per i servizi on premise da offrire ai clienti sia interni che esterni continuo a rappresentarla anche per quanto riguarda i servizi SaaS quindi andiamo a vedere delle architetture di riferimento per quanto riguarda i casi d'uso che vi ho elencato per quanto riguarda la cloud native application io posso avere sia diciamo posso avere un'applicazione che nasce nel cloud dove lo strato applicativo è come possiamo vedere gestito a livello di virtual machine nel cloud e il database poi viene ad essere MySQL database service quindi un MySQL DB system questo in realtà è un caso d'uso molto semplice che va bene per direi qualsiasi applicazione in quanto appunto l'interazione che si ha con la piattaforma cloud è un'interazione attraverso il public internet e si può andare poi a sfruttare tutto l'ecosistema di applicazione dell'oracle cloud poi quando invece andiamo a vedere un'architettura un pochino più complessa dove si parla di spostare i workload esistenti verso il cloud questa cosa si può fare in due modi se io ad esempio voglio spostare una mia applicazione enterprise che ho on premise la voglio spostare nel cloud io posso fare in realtà due cose posso si spostare il database verso un mysql database service e accedere alla piattaforma cloud tramite ad esempio vpn quindi andando a creare quindi il tenant nell'oracle cloud viene ad essere un'estensione del mio data center e quindi vado a creare anche una piattaforma diciamo così ibrida ma per quanto riguarda l'applicativo in generale io posso fare due cose posso fare il lift and shift di quello che ho on premise quindi metto su delle macchine virtuali nel cloud e ci porto i servizi che ho su macchina virtuale on premise oppure posso fare una cosa molto popolare che sta diciamo riscuotendo attenzione posso fare una re-ingegnerizzazione della mia applicazione spostarla da macchina virtuale a micro servizi quindi vengo a creare una vera e propria applicazione cloud native che andrà a spostare il workload corrente dall'on premise al cloud e diciamo questo questa foresta di container che può essere gestita tramite il container engine per kubernetes nativo dell'oracle cloud poi andrà ad agganciarsi per la parte di database al mysql database service quindi avrò un db system dedicato che mi permetterà appunto di spostare i dati dall'on premise al cloud in modo molto semplice per mancanza di tempo non posso farvi vedere come si fa oggi ma vi assicuro che è assolutamente un'operazione molto immediata e trasparente poi un altro discorso che mi piacerebbe affrontare brevemente nei prossimi minuti è il discorso delle analitiche quindi ho spostato come abbiamo visto nella slide precedente il mio workload verso il cloud e adesso dico va bene io ho i miei centinaia di gigabyte di database terabyte di database spostati nel cloud e vorrei affrontare il discorso delle analitiche il discorso delle analitiche da sempre in MySQL è un discorso che ha avuto delle complessità intrinseche che si è risolto in buona parte con la versione 8 con il supporto delle generated columns con il supporto delle common table expression delle window function che offrono possibilità di aggregazione ranking e quant'altro il supporto degli indici funzionali e anche l'ottimizzazione del processamento delle transazioni però come è vero per MySQL è vero anche per qualsiasi altro database relazionale quando io ho ottimizzato tutto l'ottimizzabile ecco poi a un certo punto se ho una query che è stampata prende 8 pagine a 4 quella query al netto di tutte le ottimizzazioni possibili e immaginabili e come abbiamo detto per quanto riguarda gli incrementi di performance MySQL ha fatto passi da gigante con la versione 8 infatti come già è stato detto si è arrivati a circa una punta di 2 milioni di select contemporanee quindi al netto di tutte le ottimizzazioni possibili e immaginabili poi c'è comunque un fronte di pareto con cui mi troverò a fare i conti e appunto per questo per risolvere questa complessità intrinseca nei prossimi mesi sarà rilasciato il MySQL Analytics Service nome in codice Rapid che sta per Rapid Analytic Processing in DRAM che è un servizio esclusivamente cloud venuto fuori dal lavoro dell'Oracle Cloud Labs e architettato specificamente per girare su Oracle Cloud Infrastructure completamente integrato con MySQL che supporterà delle analitiche in tempo reale grazie al processamento in memoria quindi quando dico analitiche in tempo reale intendo davvero in tempo reale perché sono stati fatti dei test a cui anche io ho avuto la fortuna di prendere parte e vi posso anticipare non vi posso anticipare molto in realtà ma vi posso anticipare che alcune query che io ho visto girare su un'istanza MySQL database service ben configurata ben ottimizzata e molto ben fornita in termini di risorse tra l'altro istanza per metal non virtuale che alcune query che ho visto girare in un'ora e mezza date in pasto all'analytic service hanno restituito il risultato completo in pochi secondi quindi per quanto riguarda le analitiche si sta per fare un salto quantico in termini di performance quindi in termini di possibilità che verranno aperte verso il mondo MySQL grazie al MySQL Analytics Service aspettatevi maggiori informazioni a questo proposito nei prossimi mesi quindi siamo quasi giunti al termine di questa chiacchierata amichevole sul MySQL Database Service cosa altro mi sento di consigliare mi sento di consigliarvi la lettura di tutta la documentazione che trovate su questa pagina di cui poi troverete avrete sicuramente copia e mi sento di consigliarvi di approfondire l'argomento MySQL Database Service e di seguirne lo sviluppo perché riceverà un continuo aggiornamento in termini di funzionalità e di capabilities quindi un'altra cosa che mi sento di consigliarvi è di dare un'occhiata al cloud cost estimator dove appunto potrete preconfigurare l'ambiente cloud quindi anche il MySQL Database Service di vostro gradimento e vedere l'impatto economico di un eventuale passaggio si parte dalla versione base che è MySQL Database Service con doppia virtual CPU e 16 giga di ram da 37 dollari al mese quindi io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e per l'attenzione e ripasso la palla a Francesco Bene quindi dovendo semplificare e banalizzare che poi è il mestiere del giornalista MySQL in cloud bello ci piace noi abbiamo fatto abbiamo predisposto un sondaggio per capire però quali sono se ci sono i principali fattori di freno all'adozione dei cloud database non solo MySQL in generale noi facciamo una domanda in generale poi è chiaro che declineremo la cosa per quanto riguarda MySQL quindi chiediamo al pubblico di rispondere a questo sondaggio un altro sondaggio in cui indicare quelli che sono i principali motivi che frenano ipoteticamente il passaggio ai cloud database i motivi possono essere tanti noi ne abbiamo selezionati alcuni da proporvi come risposta che sono un po' quelli di cui si parla più spesso mentre arrivano le domande il mio input per non annoiare il pubblico sentendo solo me che parla e volevo chiederti Vittorio se tu comunque incontri ancora delle non dico resistenze ma delle perplessità quando vai a proporre questi nuovi modelli di fruizione allora in realtà dipende perché ci sono delle realtà come quella che può essere la realtà italiana dove per esempio la domanda per il cloud c'è ed è costante mentre mi sono ritrovato a fare i conti e ad esempio per fare un parallelismo con altri paesi dato che ho visibilità su una regione abbastanza vasta ad esempio la Polonia è una realtà molto simile in questi per certi versi a quella italiana quindi c'è domanda per il cloud c'è domanda per ridurre le complessità conseguentemente all'adozione del cloud eccetera eccetera ci sono invece altre realtà dove si guarda un po' più con sospetto verso il cloud per tutta una serie di motivi e c'è una certa riluttanza ad abbandonare l'on premise perché c'è una certa tendenza a dire no i dati sono miei e me li voglio tenere vicino ecco però per quanto riguarda la realtà italiana da quello che ho avuto modo di vedere la domanda del cloud la domanda di innovazione c'è ed è costante ok io a questo punto visto che i voti si sono abbastanza stabilizzati blocco il televoto questi sono i risultati a me piace sempre tanto quando la risposta non sono risponde non la sceglie quasi nessuno perché mi dà l'idea che abbiamo fatto la domanda giusta privacy come elemento principale di chiamiamola perplessità direi che ci ritroviamo in quello che che raccontavi prima commentami un po' questi risultati se vuoi allora questi sono risultati veramente interessanti perché per quello che posso vedere sono uno specchio molto accurato del mondo reale quindi ringrazio tutti i votanti per il campione fornito per quanto riguarda vorrei commentare il punto di maggiore il punto che ha ricevuto più voti che è la privacy dei dati come freno all'adozione del cloud secondo me onestamente è un punto che non ha ragione di essere perché Oracle in prima linea ma in generale tutti i cloud provider stanno facendo stanno ponendo veramente molta molta attenzione alla sicurezza e in particolare posso commentare per Oracle c'è documentazione e materiale molto esteso per quanto riguarda per andare a testimoniare la sicurezza dell'infrastruttura cloud e c'è anche la possibilità ad esempio per alcuni clienti di fare visite guidate ai data center e quant'altro insomma c'è tutta una serie di attività per smorzare questo punto e un altro commento che mi sentirei di fare sulla sicurezza i servizi cloud che io vedo sviluppati sono sviluppati con la sicurezza in mente quindi quando voi andate a fare il deployment base del MySQL database service la sicurezza dell'infrastruttura e la sicurezza della piattaforma è già stata tenuta in mente cosa che purtroppo non sempre abbiamo potuto riscontrare quando si tratta di installazioni on premise quindi questo per quanto riguarda la sicurezza mi sentirei di fare un commento anche sul secondo classificato del sondaggio che individua come freno nell'adozione del cloud la disponibilità di competenze o la compatibilità delle applicazioni esistenti ecco per quanto riguarda la disponibilità di competenze posso capire che il passaggio al cloud rappresenta uno shift di mentalità però vi posso parlare della mia esperienza personale perché anche io vengo da un mondo di infrastrutture on premise e confrontandomi col cloud di primo acchitto può sembrare un mondo completamente nuovo la maggiore difficoltà è abituarsi all'interfaccia una volta che ci si è abituati all'interfaccia e alle dinamiche e alla nomenclatura del cloud cosa che richiede un tempo non esageratamente lungo perché poi si possono fare vari parallelismi con l'on premise eccetera ci si trova ci si trova diciamo a poterlo gestire in modo molto semplice indipendentemente dalla piattaforma la compatibilità con le applicazioni esistenti ecco sì molto spesso il cloud offre delle tecnologie diciamo le ultime novità in termini di tecnologia questo anche con MySQL che offre la versione sempre l'ultima versione sempre aggiornata per quanto riguarda il cloud però magari c'è il caso di considerare che il mondo corre e bisognerebbe fare uno shift di mentalità come quello che diceva Marco verso l'on premise scusate verso il DevOps e andare appunto a considerare sempre tempo permettendo purtroppo e capisco bene che non è facile per tutti a considerare una una riarchitettura delle applicazioni per tenerci al passo con i tempi ecco questi erano i commenti che mi sentivo di fare vorrei aggiungere un paio di cose sentendo parlare e leggendo un po' anche le risposte la privacy dei dati può essere vista anche in un'altra prospettiva cioè sto mettendo le mie informazioni sui dischi di qualcun altro in questo senso la criptografia cioè i dati e i dischi sono criptografati non sono i dati non sono in chiaro sul cloud di Oracle daremo anche opzioni aggiuntive presto di criptografia più personalizzata dove il cliente si tiene la chiave e di conseguenza responsabilità vostra la sicurezza della chiave di decifratura quindi sappiate che i dati sono comunque criptografati all'interno dei dischi di Oracle in maniera sicura e i data center sono in continua espansione c'è già sul territorio europeo per esempio Francoforte che è in territorio europeo non è l'unico e nuove soluzioni per avere i dati più in casa oltre ai data center che si stanno installando un po' dappertutto in Europa anche la possibilità di avere strumenti di clouded customer cioè la possibilità di avere l'infrastruttura di cloud presso il cliente stesso certo stiamo parlando di costi elevati in questo caso e di conseguenza per certi clienti non per tutti però questa combinazione di dati criptografati nativamente possibilità di avere data center in tutta Europa soluzioni anche per clienti particolari direi che la privacy dei dati è un aspetto che è coperto abbastanza bene questo sì questo è il mio pensiero perfetto grazie allora continuiamo andiamo verso l'ultima delle nostre presentazioni parliamo di cluster stavolta e passiamo la palla a Mirko buongiorno di nuovo sono Mirko Cortensi lavoro come ingegnere di supporto nel team MySQL abbiamo parlato questa mattina di varie cose abbiamo parlato di piccoli e microservizi abbiamo parlato di servizi abbiamo parlato di servizi nella nube e ora facciamo un salto nel campo dei grandi servizi e andiamo a parlare di MySQL NDB Cluster quindi ora sarei curioso di sapere quanti sono qui ascoltando per la prima volta NDB Cluster e quanti già lo conoscono quanti lo utilizzano purtroppo non possiamo fare un'alzata di mano ma ecco rimango con questa curiosità perché MySQL NDB Cluster è uno storage engine che ha dei specifici casi d'uso quindi magari è meno conosciuto allora io sono approdato su questa isola felice bellissima Oracle ormai da quasi cinque anni e vengo dal mondo dello sviluppo dello sviluppo in team quindi programmazione gestione di team sia dal piccolo quindi dal sviluppo del microcontrollore allo sviluppo back-end front-end di applicazione e in particolare ho lavorato nello sviluppo di database telco quindi per telecomunicazioni alta disponibilità ed altissima performance allora andiamo direttamente al dunque perché abbiamo ascoltato tantissime cose questa mattina quindi non perdiamo altro tempo allora noi direttamente diciamo senza arrossire diciamo che NDB è la base di dati in memoria transazionale più veloce al mondo ecco quindi così la spaliamo direttamente e abbiamo anche dei test standard per esempio abbiamo confrontato tutti i database in memoria sia su traffico SQL che no SQL e abbiamo ad esempio un benchmark classico quello Yahoo YCSB e abbiamo visto che a parità di hardware possiamo ottenere dei risultati veramente sorprendenti quindi noi invitiamo sempre clienti ed utilizzatori a dimostrare che la base di dati basata sullo storage engine NDB è superabile da altri allora ecco parliamo di grandi servizi perché noi la troviamo molto spesso lo storage engine NDB lo troviamo sia per applicazioni quindi ambiente telco ma anche nel gaming quindi abbiamo bisogno di una base di dati real time con migliaia o centinaia di migliaia utenti online che eseguono cambiamenti di stato per il videogioco online ma anche in missioni critiche come le altre del resto per finanza per business analytics eccetera eccetera quindi nel campo dello stock exchange quindi NDB è in genere utilizzata per le mission critical applications ma non parliamo solo di performance perché a noi interessano anche altri aspetti quando parliamo di performance vogliamo parlare anche di scalabilità di un servizio e di alta disponibilità poi queste ultime due scalabilità e alta disponibilità a volte vanno anche a braccetto ma se parliamo di scalabilità per esempio quando noi parliamo di scalabilità per un servizio classico maschio al server parliamo di disponibilità in termini di creazione di un canale di replicazione il classico sorgente replica basato su un canale di replicazione asincrono e possiamo inventare architetture più o meno creative quindi un multislave o slave in catena o replicazioni topologie di replicazioni circolari possiamo orchestrare il tutto con un layer d'accesso quindi mandando le nostre scritture su una istanza primaria e le letture un po' su tutte o in particolar modo sui secondari quindi sugli slave sempre al prezzo di pagare ecco un eventuale delay che esiste perché qua stiamo parlando di replicazione asincrona quindi possiamo avere un delay e fare delle stale reads come diciamo sulle repliche abbiamo fatto un passo in avanti perché abbiamo creato prima il plugin group replication già in mysql server 5.7 e abbiamo migliorato ulteriormente in mysql server 8 e abbiamo creato una soluzione semplice trasparente e con un failover automatico quindi noi possiamo con inno db cluster quando parliamo in no db cluster parliamo di group replication che già è un sistema distribuito basato su inno db e parliamo poi di inno db cluster quando aggiungiamo anche in tutto il layer accesso dati un mysql router perché il mysql router quello che fa è automaticamente mandare le scritture alla replica primaria che è attiva in quel momento e le letture in load sharing sulle altre repliche o tutte le repliche questo evidentemente semplifica moltissimo il discorso di scalabilità per quanto riguarda le letture e per le scritture invece abbiamo lo stesso livello di scalabilità quindi se scriviamo su una replica stiamo scrivendo su tutte le altre repliche anche in modalità multi master comunque sia le scritture non sono in genere scalabili mentre le letture ecco da 3 server minimo fino a 9 server quindi immaginate che potenza che abbiamo con inno db possiamo scalare fino a 9 istanze che replicano il dato nella istanza primaria e avere quindi una potenza di distribuzione di load sharing su 9 repliche veramente notevole ma ancora una volta le scritture non le scaliamo perché questo è il prodotto quindi questo è il ndb cluster quindi ndb cluster quindi questo storage engine è l'unico che riesce a diciamo gestire differenti shards quindi trasparentemente noi facciamo eseguiamo delle scritture e queste vanno a finire nei diversi dati data nodes nei diversi nodi e ora andiamo a vedere un grafico dove si spiegherà un po' più semplicemente cosa succede però ecco noi quando effettuiamo effettuiamo delle scritture noi i nostri records e la nostra tabella che vogliamo inserire automaticamente vanno a distribuirsi su diversi hardware su diversi data nodes nello storage engine ndb che tra l'altro per chi non lo sapesse significa ndb network database quindi cosa ci troviamo a considerare quando parliamo di sql ndb cluster per chi viene dal mondo classico ndb e vuole sapere un po' di più cosa abbiamo abbiamo innanzitutto un sistema mission critical quindi come vedete a 6 a 6 appunto a 69 99.99 99% di disponibilità perché la maggior parte delle operazioni se non tutte si possono fare online quindi riusciamo a raggiungere degli uptime sorprendenti che servono appunto per queste missioni critiche abbiamo sempre una base di dati ACID quindi atomica consistente con l'isolazione tra le transazioni garantita e abbiamo sempre una base di dati ovviamente durevole quindi con la durabilità garantita poi la durabilità possiamo dire di due tipi sia su disco sia che sulla rete è una base di dati open source che potete sperimentare in qualsiasi momento perché è sempre presente nella versione community che potete scaricare dai nostri portali e è una base di dati che scala assolutamente bene perché possiamo aggiungere data data nodes praticamente ad libitum ecco fino a 144 data nodes quindi c'è una capacità sorprendente per immagazzinare dati in memoria e non e non ecco questo lo ricorderò dopo perché non solo in memoria quindi questo è un layer per sviluppare diciamo un sistema basato su NDB cluster allora cosa vediamo vediamo i clienti in primo luogo e vediamo il layer d'accesso quindi come che cos'è esattamente NDB allora se MySQL server è basata per esempio consideriamo InnoDB MySQL server è basata sul storage engine principale che è InnoDB che corre nello stesso processo MySQLD quindi MySQLD è un multi-thread e lo storage engine corre all'interno dello stesso processo l'NDB cluster quindi nasce per esigenza di prevedibilità del carico sia nell'utilizzo anche delle risorse ma anche per una performance assolutamente prevedibile quindi che cosa si è fatto si è separato lo storage engine all'inizio e si è sviluppato indipendente dal MySQL quindi noi abbiamo uno storage engine che sta al di fuori di MySQL e può sopravvivere senza lo stesso MySQLD senza lo stesso MySQL server quindi come vediamo qui ad esempio abbiamo la tazzina di Java perché noi possiamo accedere a quei nodi sia attraverso un MySQL server poi il MySQL server delega le petizioni ai data nodes che sono esterni al MySQL sono esterni quindi sono dei processi diversi si chiamano NDBD o NDBMTD quindi sono dei processi multi-thread quindi possiamo accedere attraverso il classico connectorJ o attraverso le API quindi abbiamo proprio qui l'utilizzo NoSQL dell'NDB cluster attraverso delle API che vanno dirette ai data nodes quindi qua abbiamo una performance tremenda perché ci saltiamo tutto il layer di accesso SQL perché noi siamo interessati al chiave valore quindi qua abbiamo veramente una capacità di concurrent users quindi utilizzatori contemporanei veramente brutale quindi questo è un grosso modo l'architettura allora gli utilizzi che ne possiamo fare gli usi possiamo andare qua in alto a sinistra possiamo andare dal data node singolo connesso a un MySQL server quindi noi per la nostra applicazione noi ci connettiamo a un MySQL server come sempre ma la nostra tabella non sarà di tipo in UDB bensì di tipo NDB e quindi già da un punto di vista di utilizzo dell'applicazione è completamente trasparente non è questo l'uso diciamo per cui nasce NDB ma è possibile quindi utilizzare un singolo data node in genere preferiamo avere ecco la replica sincrona quindi in basso a sinistra abbiamo già l'alta disponibilità quindi questi due data nodes sono replicati sincronamente sincronamente quindi è l'unico prodotto l'unica soluzione maestriale che è una replicazione sincrona leggermente diversa da InnoDB Cluster che è sincrona eventualmente quindi c'è un transaction commit che è sincrono in InnoDB Cluster poi dopo il nodo fa un push del dato allo storage engine individualmente poi ci sono dei meccanismi anche per controllarlo questo su InnoDB Cluster e poi comunque si ha l'uso veramente tipico per i grandi servizi lo vediamo a destra quindi abbiamo accesso misto sia da SQL quindi accedendo al MySQL server con connector che noi vogliamo di tutti quelli già disponibili per il MySQL server o l'accesso no SQL quindi un accesso misto andando direttamente ai data nodes abbiamo anche accesso via node.js e ecco diciamo questa è un po' la soluzione e possiamo scalare sia nell'ambito del data layer o nell'access layer quindi possiamo mettere molti SQL server come noi chiamiamo i MySQL server li chiamiamo SQL server possiamo scalare quindi in quel layer o in layer dei dati aggiungendo altri data nodes quindi noi riusciamo a scalare sia le scritture sia le letture perché le scritture possiamo creare dei gruppi di nodi che hanno ecco dati non condivisi con altri gruppi di nodi qua ecco nell'esempio vediamo due gruppi di nodi collegati e per ogni singola partizione prima di meschio e lotto potevamo avere fino a due repliche ma da MySQL 8 in poi abbiamo fino a quattro repliche in quattro nodi diversi dello stesso dato quindi abbiamo assolutamente non alta ma altissima disponibilità che poi si ripercuote anche in maggiore load sharing delle letture quindi abbiamo che uno shard può essere trovato immagazzinato fino a quattro repliche le quattro repliche sono attive e consistenti perché sono replicate tra sé con replicazione sincrona il tutto condito da un failover automatico quindi se un data node cade crasha per qualsiasi ragione abbiamo sempre n repliche meno uno quindi tre due o uno e come vediamo da questo grafico ecco perché parliamo di mission critical database perché noi possiamo perdere tutti i nodi che vogliamo nell'accesso perché sono separati sono separati da layer dati quindi se ecco nell'immagine abbiamo tre di quattro maschile server che crashano sono indisponibili così e comunque possiamo sempre accedere e se nel caso qui nell'immagine abbiamo fino a quattro repliche per shard quindi nell'immagine abbiamo praticamente otto macchine dove corrono in ogni macchina un processo mdb possiamo perdere fino a tre repliche e abbiamo disegnato degli algoritmi per fare arbitration e evitare lo split brain nella misura che occorre andiamo poi possiamo parlare anche di geo redundancy perché noi possiamo avere cluster per area o per site quindi possiamo creare un cluster e avere una replicazione geografica la geo redundancy che è basata sulla è la stessa in realtà replicazione asincrona del classico master slave quindi noi possiamo mettere in comunicazione dei cluster interi tra vari continenti ecco ovviamente quando usciamo dal data center o usciamo dalla nazione o dal continente non pretendiamo di avere una replicazione sincrona perché è impossibile garantire quella latenza tale da permettere il sincronismo tra vari nodi però in quel caso possiamo avvalerci della replicazione asincrona che è la classica di sempre quindi i data nodes si appoggiano su un my scale server per replicare dati e avere anche quindi in caso di catastrofi naturali possiamo provvedere a fare un switchover ad un altro cluster perché questo è stato replicato quindi come funziona eccolo vediamo un semplice esempio grafico noi facciamo delle insert dai nostri clienti SQL o no SQL queste vengono attraverso un algoritmo di hashing basato sulla chiave primaria o comunque configurabile abbiamo che le nostre file della tabella vengono automaticamente immagazzinate in un data node arbitrario e scelto dall'algoritmo di hashing quindi distribuiamo le scritture su diversi hardware ecco questa è realmente una delle grosse differenze con un sistema monolitico basato su inodb ma anche distribuito come inodb cluster quindi ecco nei diversi data node il nostro dato va a finire in una partizione perché poi il dato all'interno del data node va in una partizione e ogni partizione è gestita dal suo proprio thread di accesso e di esecuzione della query quindi c'è un parallelismo anche all'interno dello stesso node e infine all'interno del node group ecco qui entriamo nella terminologia un po' più concreta di my spi cluster nel node group dove abbiamo il singolo dato che può essere distribuito da 2 fino a 4 repliche ecco qui vediamo ovviamente trasparentemente e in modo sincrono come viene distribuito non basta noi possiamo disegnare un cluster inizialmente ma possiamo se vediamo ecco anche per rispetto delle specifiche delle macchine quindi se è una base di dati in memoria il dato cresce possiamo scalare online quindi aggiungiamo diverse macchine con nuovi data notes online con una piccola riconfigurazione il cluster riconosce nuovo hardware aggiunto e lo riconfigura pronto all'utilizzo e possiamo anche nuovere automaticamente del dato dei dati ai nuovi nodi quindi c'è una distribuzione per un balancing efficiente e coerente quindi proprio tutti gli aspetti sono considerati per mantenere l'altissima disponibilità anche quando noi scaliamo stiamo crescendo aggiungiamo hardware aggiungiamo macchine aggiungiamo data notes in modo trasparente se non bastasse la memoria quindi MySQL Cluster nasce come un database completamente in memoria possiamo utilizzare anche le disk tables perché esempio dati non so transparent data blobs così possiamo scegliere di magazzinarli su tabelle esclusivamente sul disco poi se abbiamo un disco ad accesso rapido basato su memoria stazolido anche questo sarà velocissimo l'accesso quindi ancora meglio ma possiamo scegliere di salvare dei dati non solo in memoria ma anche sul disco quindi questa è una feature molto importante abbiamo il controllo completo sulla scrittura sul throughput di scrittura a disco possiamo anche pensare di mettere i mysql server per l'accesso sullo stesso sulla stessa macchina del data node quindi e garantire un accesso velocissimo quindi neanche tcp è una shared memory connection quindi andiamo anche utilizzando dell'interfaccia sql possiamo bypassare la rete per attaccare direttamente ai data node in modo veramente veloce qua condivido quindi delle caratteristiche perché se noi riusciamo ad avere fino a 140 diciamo ecco più di 100 fino a 144 data node immaginate una base di dati che corre su 144 macchine con il dato replicato da 1 a 4 repliche possiamo immagazzinare una quantità di dati fino a 5 petabytes quindi veramente da 16 terabytes al singolo data node fino a utilizzando 144 data nodes e anche tabelle sul disco abbiamo una quantità di dato che possiamo immagazzinare anche a costo ridotto perché possiamo immagazzinare su disco se non abbiamo dei requisiti di accesso ultra rapido ma soprattutto quando noi aggiungiamo macchine di che tipo di scalabilità parliamo lineare lineare non parliamo di scalabilità non lineare non parliamo di colli di bottiglie non parliamo di curve ma parliamo di scalabilità lineare perché gli algoritmi veramente di gestione dei vari shards e non solo parlando della base di dati a livello distribuito quindi dello storage engine sono veramente scalabili linearmente quindi più nodi aggiungiamo più cresciamo con il numero di in questo caso abbiamo nel grafico di letture e questo è l'accesso SQL ossia accedendo con una classica interfaccia SQL da un MySQL server e scalando nel numero dei data nodes dello storage engine riusciamo a raggiungere una scalabilità veramente praticamente lineare questo grafico lo mostra quindi vado verso la chiusura cosa abbiamo aggiunto in MySQL 8 abbiamo aggiunto innanzitutto da 44 se non sbaglio data nodes fino alla versione 7.6 siamo saltati a 144 data nodes massimi considerate poi che ogni singolo data node può utilizzare la macchina sottostante in modo assolutamente configurabile perché noi possiamo abbiamo possiamo configurare 70 threads fino a 70 threads di cui la maggior parte per l'accesso ai dati altri threads per la comunicazione quindi send buffer receive buffers possiamo mettere quei thread che gestiscono le comunicazioni essendo un sistema distribuito permette alta configurabilità anche in quel senso possiamo separare su un singolo core quindi fare un pin di un thread dedicato a una certa funzione all'interno del data node possiamo fare pin in un certo core della macchina quindi essere assolutamente sicuri che non c'è un conflitto che non c'è una competizione nell'utilizzo della risorsa CPU allo stesso modo possiamo in una stessa macchina fare un pin dei cores di un MySQL server e su altri cores possiamo fare il pinning di altri cores del data node quindi possiamo assolutamente controllare l'utilizzo delle risorse fino al livello di core questo è veramente strabiliante abbiamo aggiunto in MySQL fino a 4 repliche abbiamo semplificato la configurazione aggiungendo un dynamic memory management quindi noi la memoria che utilizzano le nostre connessioni al cluster possiamo prenderle da un pool preallocato ovviamente dinamicamente poi gli utilizzatori si regolano tramite un algoritmo quindi semplificata veramente anche la configurabilità abbiamo l'SQL quindi stiamo migliorando molto anche le esecuzioni di queries SQL le joints ad esempio parallele su tutti i data nodes sono eseguite dai data nodes quindi nell'esecuzione della join meno lavoro fa il MySQL server il MySQL e più il lavoro è fatto dalla base di dati NDB quindi dello storage engine meglio è e stiamo migliorando molto questo abbiamo anche dei benchmark molto interessanti che confrontano InnoDB con NDB quindi su query SQL SQL questi sono i miglioramenti che abbiamo aggiunto ecco dal nel salto da 7.6 a 8 in verde su dei benchmark ufficiali perché noi proviamo tutto su dei benchmark ufficiali non sempre molto in modo molto trasparente quindi TPC è un benchmark conosciuto ufficiale per questo tipo di base dei dati quindi miglioramenti su certe query possiamo vedere e abbiamo ecco qui un altro grafico quindi abbiamo fondamentalmente il miglioramento continuo miglioramento continuo sul traffico SQL non solo noi SQL ma sul traffico SQL quindi NDB non è una general purpose database è un mission critical database che eccelle per alta disponibilità e scalabilità ma possiamo anche utilizzarlo per non uscire da NDB quando dobbiamo eseguire degli SQL più o meno complessi con un numero più o meno arbitrario di joins ragioni per cui utilizzare NDB il mio tempo è agli sgoccioli ma ecco diciamo abbiamo un bisogno stringente di performance di consistenza quindi ovviamente in modo sempre trasparente noi garantiamo la massima consistenza fino a quattro repliche abbiamo bisogno di una base di dati distribuita che accetti anche non solo no SQL ma anche SQL standard classico ma soprattutto abbiamo bisogno di un'altissima disponibilità con questo io concludo questa mia breve presentazione spero che vi sia piaciuta e per qualsiasi altra domanda adesso potete raggiungermi raggiungermi nel mio profilo LinkedIn ovunque mi troviate grazie grazie Mirko io direi che oggi abbiamo parlato veramente di tante cose ovviamente dal nostro punto di vista sono tutte cose estremamente interessanti noi vogliamo però anche il punto di vista che ci sta seguendo e per questo abbiamo predisposto l'ennesimo ma davvero l'ultimo sondaggio chiedendovi quali alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi considerate a fine giornata la più interessante abbiamo toccato alcuni punti che presentiamo qui che vi chiediamo di selezionare parliamo di superamento se vogliamo della diatriba anche un po' stucchevole tra SQL e NoSQL parliamo di database real time parliamo di compliance alle norme scegliete quello che secondo voi in questo momento è l'elemento più interessante ma mentre chi ci segue risponde volevo tornare un attimo da te Mirko perché c'è un elemento interessante da sottolineare tu ci descrivi una piattaforma che è completamente pronta per applicazioni mission critica applicazioni anche esigenti dal punto di vista della gestione di dati in real time il che è interessante se consideriamo che in molte aziende MySQL entra non per questo nel senso che entra per applicazioni che sono importanti ma che non hanno questo livello di complessità non voglio dire che entra per applicazioni banali un commento su questo cioè in molti casi MySQL si rivela molto più di quello che appare a prima vista cosa ne pensi ma allora a prima vista beh questo è il discorso che facevano anche i miei colleghi Vittorio e Marco a prima vista noi abbiamo un prodotto che è semplice da utilizzare semplice da configurare e poi di fatti noi ecco io come supporto vedo molti clienti che hanno il prodotto da anche da a vario tempo che hanno una configurazione praticamente di default che è sorprendente esempio InnoDB utilizza la buffer pool cache noi troviamo dei clienti che hanno 128 megabyte poi arrivano e si lamentano perché magari hanno un collo di bottiglia con il disco quindi questa semplicità d'uso vale sia per prodotti InnoDB ma anche per prodotti basati su NDB poi poi nel caso di NDB noi abbiamo anche un cluster manager quindi abbiamo un'interfaccia che è disponibile solo nella versione enterprise di MySQL NDB cluster che veramente semplifica la gestione di un sistema distribuito veramente di molto quindi ecco io credo che sia importante perché la documentazione è veramente gigante è veramente ma credo che sia importante avere un po' di anche formazione in questo senso perché dopo le possibilità sono incredibili sia da un punto di vista di configurazione o troviamo anche esempio ecco arriva un cliente che ha una macchina con 4 sockets con 80 cores e sta correndo un NDB con 2 threads e noi diciamo se sei felice e così va bene però tu stai dedicando una macchina che è un mostro in potenza a sfruttare solo 2 cores per l'esecuzione dei dati quindi cambiando una piccola cambiando un po' la configurazione si riesce veramente ad ottenere dei risultati strabilianti quindi è molto importante capire le potenzialità entrare nell'ecosistema documentarsi perché c'è molto materiale per qualsiasi tipo di soluzione MySQL ma è importante per conoscere fino a dove si può spingere quindi a volte non abbiamo bisogno di scalare orizzontalmente una base di dati ci basta scalarla verticalmente con una miglior configurazione magari potenziando l'hardware ecco questo è quello che possiamo fare bene io a questo punto fermo il televoto spero di aver risposto esaurientemente sì sì certo adesso vediamo quali sono i risultati diciamo finali che sono almeno dal mio punto di vista abbastanza prevedibili cioè una maggiore propensione di interesse verso quelli che sono alcuni dei temi più importanti in questo momento al di là delle necessità concrete delle applicazioni sono i temi di cui si si parla di più quindi un unico database per due modelli diversi microservizi e compliance facciamo magari un giro di chiamiamolo un giro di poltrone per commentare in ordine di apparizione dai Andra un'opinione su questi risultati diciamo che sono abbastanza in linea con quello che ci aspettavamo perché sono proprio i punti più più caldi dell'ultimo periodo e avendo la possibilità di incontrare di avere un costante feedback dai clienti queste risposte combaciano molto con quello che vediamo anche sul campo abbiamo notato un sempre più grande sempre più crescente interesse per la parte non SQL cioè per la possibilità di gestire applicazioni e dati di tipo non strutturato con MySQL soprattutto da clienti che già lo utilizzano per la parte relazionale anche il tema dei microservizi è un tema importante e molto recente perché essendo MySQL un database che si presta bene a questa tipologia di architettura i clienti lo stanno seriamente valutando uno dei vantaggi principali di MySQL a parte la semplicità di utilizzo e anche la possibilità di poter mettere il database non solo come parte dell'infrastruttura ma anche in un container quindi containerizzarlo tra l'altro ovviamente MySQL è anche supportato su questi ambienti containerizzati per cui è ancora più semplice installarlo già containerizzato anche il GDPR continua a essere un tema importante è già da qualche anno che i clienti si stanno preoccupando sempre di più a questo tema come mettere in sicurezza il database e vedo che questa è ancora di attualità anche oggi Marco vuoi aggiungere qualcosa? se volete mi riaggancio io ma non per ripetere qualcosa che ha già detto Andra ma più che altro per ribadire un concetto relativo alla privacy dei dati io vi ho parlato della sicurezza è effettivamente vedere che uno dei temi che preoccupa di più chi potrebbe vorrebbe passare al cloud è la progressa dei dati questa cosa un po' mi incuriosisce perché anche se ce l'aspettavamo mi incuriosisce perché effettivamente molti utenti molto semplicemente non si preoccupano più di tanto della scusate mi segnalano c'è qualche problema con la messa a fuoco della telecamera scusate continua a tenermi al buio non so perché ma è che sei molto buio non riesco non riesco a capire è vero che c'è finita dietro ma non è cambiato niente in condizione di luce va perdonatemi dicevo è divertente perché vengono applicate in maniera molto leggera le policy di sicurezza sul sui sistemi on premise vengono i dati ogni giorno leggiamo di data breach leggiamo di attacchi ransomware leggiamo di delle cose più assurde che capitano in azienda e la cosa che che invece preoccupa tutti quando andavano andare al cloud all'improvviso è la privacy la sicurezza che cosa è che cambia cioè perché non vengono applicate le stesse le stesse regole le stesse anche paure e le stesse contromisure all'ambiente on premise questo è sicuramente qualcosa sulla quale forse dovremmo riflettere ecco io vorrei ribadire quello che ha detto Michelangelo che assolutamente dobbiamo riflettere sugli aspetti di sicurezza ma vorrei porre l'accento su una un aspetto molto interessante di questi risultati che al primo posto troviamo la flessibilità eccetera eccetera ma se andiamo a vedere combinate le percentuali delle risposte B e D scopriamo che la maggioranza la maggioranza ha scelto come impatto positivo tutto quello che è il discorso cloud e o cloud native quindi da questi sondaggi da questo sondaggio emerge che tutto quello che viene poi propagandato dai diversi media come come tecnologie del futuro cloud cloud native eccetera eccetera trova poi un riscontro nel mondo reale perché poi è quello su cui si sta spostando direi come le api sul miele l'attenzione degli utenti MySQL ok grazie io non vorrei togliere altro spazio delle domande perché ne abbiamo già molte passerei quindi a una nostra sezione di domande e risposte e partire ci sono domande un po' su tutto quello che avete presentato alcune sono un po' specifiche quindi magari potrete rispondere poi al di fuori di questo webinar ma cerco di tirare fila su alcuni punti che poi sembrano comuni a vari lettori uno riguarda l'upgrade alcune domande riguardano in particolare l'aggiornamento della versione MySQL dalla 5.6 community alla 8 enterprise e mettendo insieme queste due tre domande il tema fondamentale è a che cosa occorre fare attenzione cioè quali possono essere le best practice perché questa migrazione sia la più indolore possibile non so chi voglia rispondere di voi magari non so io posso prendere la parola brevemente da una 5.6 a una 8 allora sicuramente il meccanismo più semplice è un in place upgrade sicuramente perché è supportato e considera tutto quello che bisogna fare quindi bisogna per arrivare alla 8 bisogna passare necessariamente alla 5.7 e preferibilmente noi diciamo sempre dalla 5.6 vai prima all'ultima sulla major release 5.6 poi dall'ultima della 5.6 andiamo all'ultima della 5.7 con un in place upgrade e infine andiamo dalla 5.7 alla 5.8 che poi è ancora più semplificato poi i futuri upgrade sono ancora più semplificati perché abbiamo rimosso il comando mysql upgrade che bisognava correre ogni volta dopo un upgrade quindi adesso automaticamente le ultime quando uno fa un aggiornamento sulla mysql 8 automaticamente non cambia il binario si preoccupa di poco in generale abbiamo supportato upgrades dalla 5.5 alla 8 in questo modo con successo poi abbiamo dei clienti che preferiscono un approccio logico quindi ovviamente passano direttamente da un backup logico perché non possiamo fare un hot backup fisico quindi utilizzando ad esempio mysql enterprise backup o altri metodi quindi il backup logico è quello classico con mysql dump o mysql pump quindi ci ritroviamo un dump logico di statements sql o anche no perché potremmo utilizzare anche la funzionalità select into out file quindi ci sono veramente molti modi poi bisogna essere un po' cauti perché quando noi un backup logico lo prendiamo su una versione anteriore alla 8 e lo portiamo sulla 8 possiamo trovarci delle incompatibilità quindi esempio keywords che prima non erano keywords o viceversa questo è documentato tutto estensivamente nella nostra guida all'upgrade però ecco ovviamente va provato prima che un backup logico preso sulla 5.5 sulla che poi effettivamente si può importare senza problemi o comunque sempre facendo delle correzioni all'interno dello stesso file del backup quindi si fa un si edita con uno script si edita quello che bisogna editare è necessario e si correggia il problema per poter approdare abbiamo anche un tool offerto dalla potentissima MySQL Shell che fa un check di una base di dati 5.7 in questo caso non 5.6 una 5.7 e ti dice se è pronta all'upgrade in place verso il MySQL 8 questo è uno strumento potentissimo perché voi fate un check instance della 5.7 e vi dice tutti i problemi che trova per passare alla 8 però per utilizzare questo tool bisogna arrivare alla 7 dalla 5.6 quindi l'upgrade dalla 5.6 e la 5.7 lo possiamo fare in place poi verificare con questo strumento di MySQL Shell che possiamo andare alla 8 e proseguire con il nostro upgrade verso MySQL 8 bene ho un paio di domande che aggiungere solo una nota veloce alla risposta di Mirko a novembre nella seconda metà di novembre faremo un webinar il cui tema sarà proprio l'upgrade alla versione 8 per per cui per chi è interessato sappia che ci saranno 45 minuti ma affronteremo solo questo argomento l'upgrade alla versione 8 ho un paio di domande che probabilmente possono rispondere sia Andra sia Michelangelo una riguarda la politica di licensing per MySQL Enterprise Monitor mi si chiede se c'è una licenza da acquistare separatamente assolutamente no il monitor e tutte le funzionalità Enterprise quelle che abbiamo tutte quelle che avete visto finora in realtà sia nella mia presentazione sia nelle presentazioni tecniche dei miei colleghi sono già incluse nella sottoscrizione MySQL Enterprise per cui se acquistate una subscription annuale di MySQL Enterprise vi trovate dentro tutto incluso anche ovviamente il monitor ed è proprio per questo che arriva il nostro messaggio insomma di incoraggiamento a usare questi strumenti proprio perché sono a vostra disposizione se avete già la versione Enterprise non ci sono costi separati per le varie funzionalità quindi funzionalità e supporto in un unico pacchetto Michelangelo invece passo due o tre domande che riguardano proprio la parte dedicata alla sicurezza innanzitutto mi si chiedono se ci sono differenze tra Web Application Firewall e DB Firewall sono due cose abbastanza diverse il Database Firewall che ho presentato io è un oggetto molto molto specifico che si applica sul Database Server e che appunto è collegato al prodotto di back-end che viene utilizzato Web Application Firewall tipicamente invece sono più posizionati sul front-end e si occupano coprono anche una serie di casi d'uso che sono molto più ampi delle singole problematiche stile SQL Injections quindi effettivamente sono due strumenti abbastanza diversi uno non esclude l'altro dal mio punto di vista soprattutto come ha detto anche Andra sono strumenti già disponibili nella licenza nella subscription enterprise quindi ha assolutamente senso utilizzarlo senza senza farsi problemi altra domanda quanto la transparent data encryption impatta sulle performance? Allora non ho un dato numerico ma è qualcosa di trascurabile quindi non ci sono problemi perché è un'operazione effettuata direttamente a livello di storage engine una domanda più generale in realtà ci sono due tre domande che riguardano un tema più generale delle distinzioni ormai che ci sono tra MySQL e il fratello maggiore Oracle Database una volta c'erano delle distinzioni nette adesso la percezione di alcuni dei nostri spettatori è che le differenze si stiano assottigliando alcuni si chiedono se ci sono delle best practice per capire quale sia meglio in determinate situazioni oppure no normalmente quando ci abbiamo questa domanda ci affidiamo molto a quello che è il discorso del caso d'uso dei clienti in altri termini Oracle Database fa di più di quello che fa MySQL se ho bisogno on premise di un database che abbia l'inmemory colonnare o un ecosistema attorno di strumenti di business intelligence e un PL SQL estremamente avanzato perché devo sviluppare delle applicazioni particolarmente complesse eccetera eccetera l'Oracle Database si sposa bene esistono poi tutta una serie di categorie dove sono nel mondo open source quando ho un prodotto di terze parti open source nel 99% delle situazioni lavora con MySQL lavora anche con altri non dico che non lavora solo con MySQL però nel 99% dei casi lavora con MySQL e quindi è perfettamente integrato e funzionante ho delle applicazioni che devono partire in maniera snella e veloce il set di funzionalità di MySQL è sufficiente per quanto riguarda le esigenze dell'applicazione quindi direi dove l'applicazione ha una certa complessità e esigenze particolari ho una cosa da base e rimane imbattibile sono io il primo a dire non andare con MySQL se devi fare questa tipologia di applicazioni esiste poi tutto un mondo dove web services applicazioni snelle veloci media piccoline con piccoline non intendo piccole come volume di dati o come criticità intendo più snelle ecco in questo senso non a caso abbiamo clienti che gestiscono terabyte di dati pensate soltanto ai clienti indiani in India che devono gestire i cittadini sono quasi due miliardi in India quindi queste sono un po' le due categorie di applicazioni dove si applicano bene coesistono l'80% dei clienti che hanno Oracle Database fonte indipendente hanno anche MySQL in parallelo passo mi fermo un attimo con le domande perché volevo tornare a quella cosa che dicevamo prima magari chiedo a qualcuno di voi di spiegarla in dettaglio questo link che vi riportiamo un link accorciato oppure arrivate al sondaggio anche inquadrando il QR code porta appunto ad alcune domande che ora colpone e chi risponderà in maniera diciamo completa avrà un quella che io chiamavo una gradita sorpresa chi vuole spiegarla meglio di voi la racconto io magari anche se sono ancora nell'assegno oscurità la racconto io in pratica si tratta di un sondaggio per capire il modo in cui voi utilizzate MySQL all'interno della vostra azienda ma potete rispondere anche se in realtà non lo utilizzate non è un problema c'è una seconda parte in cui vi chiediamo dei feedback sull'evento che sono molto utili per noi per capire come migliorarci come migliorare gli eventi compilando questo modulo e accettando richiedendo l'Oracle Cloud Trial effettivamente vi andremo ad attivare un periodo di prova di 30 giorni con 500 dollari di credito da spendere per testare l'Oracle Cloud Infrastructure quella di seconda generazione di cui vi ha parlato anche Andra e il nuovissimo MySQL Database Service di cui vi ha parlato Vittorio quindi avrete l'occasione di toccare con mano alcune delle cose di cui vi abbiamo parlato oggi in maniera del tutto gratuita non è richiesto l'inserimento di una carta di credito potete farlo anche se siete più persone della stessa azienda non ci sono altri limiti particolarmente importanti alla scadenza del periodo di valutazione potete decidere eventualmente di contrattualizzarlo e quindi convertire l'ambiente di prova in un ambiente di produzione o semplicemente trasformarlo in un account always free che ha qualche minima limitazione rispetto ovviamente a un ambiente pagante a un ambiente pagato però potete comunque continuare a giocarci in autonomia il sondaggio sarà aperto tutto il giorno non l'andiamo a chiudere come finisce l'evento per darvi il tempo di rispondere da domani raccoglieremo effettivamente i dati e a quel punto riceverete un'email con la conferma dell'attivazione dell'Orapo Cloud Trial io vorrei aggiungere soltanto una cosa per quanto riguarda il MySQL Database Service i clienti qui presenti che hanno già acquistato Universal Credits Oracle sappiate che potete già utilizzare il MySQL Database Service sfruttando questi crediti che già avete acquistato perché MySQL è parte di questa offerta chiamata Universal Credits per cui se avete dei crediti che non avete ancora consumato potete sfruttare appunto per testare e poi per utilizzare eventualmente MySQL Database Service ecco io volevo chiamare in causa Vittorio perché ci sono un paio di domande che riguardano proprio i servizi cloud mi si chiede se saranno attivi in una futura regione italiana del Cloud di Oracle Allora c'è in programma l'espansione del numero di regioni coperte dal servizio MySQL Database Service per quanto riguarda una futura regione italiana penso che il momento più adatto per riparlarne sia all'effettiva attivazione della futura regione italiana del cloud di Oracle comunque qualora dovesse esserci la domanda sicuramente noi saremmo i primi a perorare la causa ok se vedete se vedete sorridere Vittorio mentre ne parla è perché non possiamo ufficialmente non possiamo parlare delle road map ma diciamo che questa richiesta è già pervenuta diciamo mettiamola in questi termini ecco pur non potendo rispondere positivamente sappiate che c'è una road map non possiamo dire che abbiamo fatto lo scoop però insomma siamo andati in quella direzione no non c'è ancora niente di ufficiale non c'è niente di sicuro non c'è niente di niente ci sono delle road map Oracle è intenzionata ad aprire data center un po' dappertutto per cui non posso dire quando ma c'è una fortissima attenzione anche a questi aspetti di localizzazione di data center io riassumo poi due tre domande sempre per Vittorio in cui diversi ascoltatori ci chiedono ma questa specifica versione che esiste nella versione on premise questa funzione che c'è nell'on premise c'è anche nel cloud non ti riporto le varie versioni però ti faccio se vuoi la domanda come dire che le riassume ci sono e se ci sono quali differenze fondamentali tra MySQL on premise e MySQL in cloud allora dal punto di vista applicativo l'applicazione funzionerà trasparentemente allo stesso modo sia on premise che nel cloud lo sforzo la direzione che si è intrapresa è quella di portare nel mondo cloud tutte le caratteristiche di gestione scalabilità e sicurezza che si possono trovare nel mondo on premise ecco e la nota positiva per quanto riguarda l'ambiente cloud è che dal punto di vista applicativo nessuna differenza dal punto di vista amministrativo una istanza di MySQL in cloud parte con una configurazione di default già molto più performante di una configurazione di default on premise Mirko un attimo perché un paio di persone ci hanno chiesto di approfondire meglio le differenze tra InnoDB Cluster e NDB Cluster Allora sono due basi di dati distribuite molto differenti perché dal punto di vista del singolo nodo come dicevamo InnoDB sta dentro il processo MySQL mentre nel caso di NDB proprio da un punto di vista processuale di computazione nel caso di NDB abbiamo proprio decoupled separato quello che è il layer di accesso ai dati dal dato vero e proprio quindi per questo riusciamo proprio a collocare nel caso di NDB riusciamo a collocare ogni singolo thread che compie certa determinata funzione su un core e utilizzare quel core della macchina solo per quella funzione quindi abbiamo una configurabilità pazzesca nel caso di NDB quindi abbiamo veramente un numero di parametri delle possibilità enormi questo da un punto di vista veramente di micro configurazione da un punto di vista di performance comunque parliamo di basi di dati diversi quindi però possiamo ovviamente sulla interfaccia SQL InnoDB è il campione ma NDB non si comporta male per nulla come dicevo prima NDB non è un general purpose e non è pensato neanche per quello ma per questo si possono prevedere degli usi misti per NDB invece InnoDB per SQL analitiche eccetera è un campione se parliamo di quindi non solo di performance della stessa query se parliamo di scalabilità le scritture le scaliamo solo con NDB con InnoDB cluster non le scaliamo le scritture perché noi quando facciamo una scrittura nell'istanza primaria la dobbiamo replicare in tutti i nodi fino a 9 quindi quel carico di scrittura utilizzo di storage device anche per la durabilità per la scrittura del ridu log eccetera eccetera la dobbiamo replicare quindi non riusciamo a scalare non riusciamo a scalare c'è poi chi utilizza dei third parties per organizzare uno sharding utilizzando il NDB ma questo è un altro discorso un'altra architettura la bellezza di NDB che lo sharding è automatico quindi noi possiamo veramente aggiungere immaginate aggiungendo 144 nodi se utilizziamo due repliche per ogni shard abbiamo la metà quindi 72 72 nodi 72 mini cluster che sono organizzati trasparentemente quindi il nostro dato può essere ovunque noi facciamo una query e con un round trip minimo di segnali riusciamo a riportare a casa il dato è una cosa veramente pazzesca perché è trasparente ed è semplice e è scalabilissima questa cosa è un utilizzo diverso ovviamente che con i NDB non è possibile mentre che per i NDB cluster ciò che aggiungiamo al classico i NDB è l'auto failover la trasparenza nel failover quindi se utilizziamo MySQL router possiamo avere da 3 a 9 istanze quindi possiamo fare un load sharing di letture pazzesco e se ci crasha 1, 2, 3 nodi se abbiamo nel caso di 9 ecco abbiamo un'architettura basata su quorum quindi il calcolo del quorum in NDB cluster è basato sulla maggioranza in NDB cluster se abbiamo 4 repliche ne possiamo perdere una e neanche sbattere gli occhi ma abbiamo anche un'arbitura arbitrator esterno perché ci sono dei management nodes dei nodi di gestione nell'NDB cluster che sono leggerissimi quindi da un punto di vista architetturale abbiamo anche delle differenze con i NDB cluster si tratta quindi di usi diversi di performance diversa sull'SQL e non SQL di scalabilità nelle letture e nelle scritture diverse e quindi di utilizzo chi si trova bene con i NDB si troverà bene con i NDB cluster in genere rimaniamo su di te perché c'è una domanda un po' specifica che riguarda proprio NDB cluster c'è un nostro ascoltatore che dice che lo ha provato nelle versioni nelle prime versioni dove tutto è andato benissimo ma poi in caso di corruzione del database si è trovato in difficoltà più che altro a trovare informazioni e tool che lo aiutassero ci chiede se oggi la situazione è diversa in NDB no in NDB cluster in NDB beh in NDB noi abbiamo allora nel caso di corruzione ecco per questo abbiamo un sistema ridondante perché il problema di corruzione può essere generato innanzitutto da una cattiva amministrazione perché in supporto io ho visto delle cose interessanti tipo permessi di alcuni file cambiati quindi NDB poi fa fatica magari a dire all'utente finale è stato cambiato questo permesso quindi noi dobbiamo a ritroso scoprire cosa è successo quindi in genere ci può essere una cattiva amministrazione non entriamo in questo caso ci può essere una corruzione del disco un settore del disco danneggiato allora cosa possiamo fare se noi perdiamo un nodo intero beh se abbiamo fino a 4 repliche in NDB 8 non abbiamo un grosso problema da un punto di vista di perdita di performance se invece abbiamo due repliche ne perdiamo uno in caso di molte letture non possiamo utilizzare le due repliche per distribuire le letture quindi abbiamo un sistema che diciamo degradato degradato quindi il recovery in realtà è molto semplice se abbiamo una corruzione dovuta incrociamo le dita viocene scampi ad un bug nostro ma in genere non cioè lavoro da molti anni con NDB cluster ma corruzione per un bug no gli bug ci sono di altra tipologia ma il dato quando è durevole è sparato sul disco sta lì insomma non è che in genere basta reiniziare quel data node se ha avuto dei problemi una corruzione del dato basta reiniziarlo con un parametro minus minus meno meno initial allora che succede il nodo riparte e si sincronizza in automatico dall'altra replica quindi si aggiunge un pochino di carico di rete in quel caso un pochino di carico all'altro nodo che deve servire l'altro nodo per sincronizzare da zero da zero completamente da zero poi se uno ha già tre repliche dello stesso dato con quattro data nodes nello stesso node group attive poi il carico sarà minore comunque questo è un unico comando cioè noi che cosa non abbiamo bisogno di andare a un restore di un backup non ce n'è bisogno perché abbiamo la network durability che ci dice noi abbiamo già il dato da un'altra parte e che era già stato messo dentro in modo sincrono quindi rifacciamo ripartire il nodo con lo stato initial e questo si sincronizza per intero dall'altro nodo in modo assolutamente trasparente quindi questo è quello che abbiamo poi abbiamo ovviamente backup restore nativo quindi più o meno anche molto più veloci di un restore logico perché anche NDB ha il suo backup proprio nativo quindi ottimizzato per scrivere il suo backup quindi almeno utilizzando la durabilità data dal backup e la network durability quindi per far ripartire un nodo sincronizzandosi per intero possiamo rispondere a questa classe di emergenze come dicevo ci sono state veramente tante domande non ve le pongo tutte perché ormai il tempo a nostra disposizione ha gli sgoccioli invito chi avesse fatto delle domande specifiche a farle eventualmente ai nostri relatori via LinkedIn via altri social network comunque come dicevo prima tutte le domande vengono poi passate come ce le avete date ai nostri relatori quindi io passerei ai saluti finali ringrazio sicuramente chi ci ha seguito siete stati veramente tanti e questo ci fa piacere e ringrazio voi che siete stati con noi a illustrarci le novità del mondo di MySQL grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie alla prossima grazie a tutti